Buonasera, benvenuti alla diciottesima puntata del nostro Montegol, il programma del lunedì. Questa settimana c'è una novità, abbiamo l'ospite che vado subito a presentarvi e a ringraziare per la disponibilità. Luca Mazzoni, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ringrazio anche Lorenzo Modestino e la società Rosso Verde che ci hanno permesso di ospitare il portiere Rosso Verde. Insieme a Luca Mazzoni c'è Massimo Laureti del giornale dell'Umbria, la gazzetta dello sport, e poi c'è anche Luca Giovannetti del Corriere dell'Umbria, vicino a me c'è Silvano Ricci del Polisportivo a Campitello, direttore generale del Campitello. Parleremo poi nella seconda parte di una problematica che si è evidenziata un paio di settimane fa, però è un discorso in generale quello che faremo stasera con Silvano. In regia c'è Alberto Francioli, la prima parte la utilizziamo solo e esclusivamente per parlare con Luca Mazzoni e per sentire le sue impressioni. Io intanto direi subito di iniziare con quei lavori di Maurizio Bonifazzi, un lavoro però che riguarda naturalmente Luca Mazzoni. Insomma, vediamo quello che ha realizzato l'amico Maurizio Bonifazzi, il suo lavoro grafico che ci illustra appunto Luca Mazzoni. Se la regia quando è pronta può mandarci queste due immagini, questi due lavori grafici che il buon Maurizio ha fatto. Luca Mazzoni, Spider-Man, così si definisce Maurizio Bonifazzi, è un lavoro grafico. E questo è il secondo lavoro appunto di Maurizio. Beh, carino no Luca? Sì, grazie per lo Spider-Man, molto bello. Bene, quindi questi sono i due lavori di Maurizio Bonifazzi che poi avremo modo di vedere anche gli altri perché li ha dedicati direttamente a coloro che hanno realizzato il gol, ma ce n'è un'altra che definisce un po' la vittoria della Ternana. Cioè c'è questa grande soddisfazione per la vittoria della Ternana, il 4-0. E prendendo spunto da un film che credo uscirà dopo domani, Star Wars, ha realizzato un'altra straordinaria, per vero. Il risveglio della forza, l'abbraccio dei rossoverdi con questa scena di Star Wars. Ti piace Luca? Sì, è abbastanza significativo anche, il risveglio della forza mi piace. Può essere, quel 4-0 può essere davvero il risveglio della forza, anche se prima c'era stato Vercelli, c'era stato il match vinto appunto anche in precedenza con il Vicenza. No, hai detto bene, nel senso che comunque negli ultimi 4 partiti abbiamo fatto 9 punti, abbiamo steccato, ma secondo me soprattutto dal punto di vista proprio del risultato ad Ascoli. Però insomma ci farei la firma, la media a punti ora è discreta, infatti ci ha permesso di fare un bel passo avanti. Adesso ci sono tre partite alla fine del giro d'andata e secondo me dobbiamo cercare, quello che ci siamo detti anche come squadra, di porre l'obiettivo sulla prima metà della classifica, cercando magari di finire l'anno in quel contesto, visto che per come eravamo partiti insomma sarebbe già un buon inizio poi dell'anno prossimo. Poi magari lascio anche a Massimo e a Luca, anche a Silvano se volete intervenire con Luca. Oggi non ti sei allenato, hai finito la partita sabato un po' con una vistosa fasciatura al ginocchio destro, come vanno le cose? Oggi ho fatto un esame, però sono abbastanza tranquillo, nel senso è una ricaduta di un infortunio di un paio di settimane fa, e come abbiamo fatto un paio di settimane fa insomma faremo per questi ultimi 12 giorni, sarà magari da stringere un po' i denti però non è un problema. Quindi ti fossi tranquillizzati da questo punto di vista? Sì, mi sono tranquillizzato, poi spero che si siano tranquilli anche loro. Bene, allora sentiamo Massimo e anche Luca e poi Silvano. Intanto volevo fare una richiesta, avanzare una richiesta a Bonifazzi, nel senso che mi piacerebbe vedere un Luca Mazzoni uomo ragno, invece di Spider-Man, ho il tuo vestito di nero questa cosa, perché lui quando esce, capito, poi urla, la voce ti sente su dall'alto, quindi ti dà l'idea dell'uomo ragno che va a prendere sto pallone alto, e quindi quella è per Bonifazzi. Quindi Maurizio, una delle prossime. Maurizio, una prossima volta, un bel lavoro grafico. E questa è una. Prego. Dicevi delle quattro partite, nove punti. Io dico, togliamo le prime cinque, un punto, da quel momento in poi c'è stata un'altra ternana, anche se un po' in altalena, un po' andando avanti per assestamenti successivi, pensi che questa sia la ternana vera, ovvero sia quella che come rendimento possa arrivare alla fine del campionato, possa aver raggiunto la sua quadratura, la sua identità, la sua forza vera, oppure c'è ancora da scoprire qualcosa? No, secondo me ancora la squadra non è al 100% di potenzialità, perché credo che i risultati, che comunque dal punto di vista dei punti, sono ottimi da quando è arrivato il mister, perché credo sia una media quanto meno play-off. 1,7 a partite. Quindi è una media da play-off, però a parte quello, a volte magari siamo ancora un po' incostanti, ma ti posso anche dire che, essendo partiti molto male, abbiamo vissuto alcune partite, spesso come l'ultimo esame, come la partita da vincere a tutti i costi, quindi... L'incubo liberati, no? Non si vinceva liberati, quindi... Secondo me una, per esempio, delle motivazioni potrebbe anche essere quella. In casa abbiamo giocato tante partite che sembravano un po' da ultima spiaggia, quindi probabilmente attenzione non tanto del pubblico, che ci fa piacere, insomma, quando e se tornerà numeroso allo stadio, dipenderà anche da noi, però il fatto di dover giocare sempre partite con l'acqua alla gola, magari qualche volta ci ha condizionato. Proprio per quello sarebbe l'ideale finire magari il giro in andata in una situazione abbastanza tranquilla per poi preparare bene il giro in dirittura. Come mai la Ternana, a volte per le circostanze, ma tu ritieni ci sia una spiegazione strutturale, è una squadra che manifesta una così evidente idiosincrasia ai pareggi, addirittura tra A e B è l'unica squadra che abbia un solo pareggio all'attivo, finora. Sì, col Cagliari, ma è un'attività giornata, quindi. Ma non credo che francamente ci sia una vera e propria spiegazione, nel senso che è vero che siamo una squadra, ci siamo sempre detti da quando è arrivato il mister, che dobbiamo cercare di andare comunque a fare risultato un po' su tutti i campi, anche perché avevamo bisogno, quindi spesso magari non abbiamo, diciamo così, cercato, tirato da Mimbarca per portare via un punto, però secondo me tanto dipende anche un po' dalle circostanze, è chiaro che in un campionato poi arriveranno sicuramente anche pareggi, che poi non sono mai da buttare via, perché se andiamo a vedere magari qualche partita che abbiamo perso male, o qualche punto in più, ti rendi conto che potevano far comodo, però alla fine diciamo che sei sempre riuscito a metterci una pezza magari dopo la sconfitta, quindi questo comunque è una cosa abbastanza importante. In effetti, in parte hai anticipato quella che voleva essere la mia domanda successiva, un solo pareggio, quello che ricordavi tu alla terza giornata col Cagliari, sette vittorie, tutte in una gestione breda, e dieci sconfitte. All'Adrenana paradossalmente non mancano le vittorie, poi è chiaro, le avesse vinte tutte sarebbero già qui a festeggiare mezzo Serie A, manca qualche pareggio, in realtà se avesse pareggiato tre o quattro delle partite che ha perduto, sarebbe stata oggi in piena zona playoff. Sì, i numeri insomma dicono questi, poi è vero che difficilmente puoi fare questi calcoli, perché poi magari a Vercelli potevi pareggiare, in qualche altra partita magari potevi portarvi a meno, anche se di quelle a meno che mi vengano in mente le partite che hai vinto, secondo me le hai vinte forse con Novara è stata la partita dove abbiamo sofferto un po' di più le hai vinte tutte abbastanza nettamente. Però è chiaro che alla fine di un campionato i pareggi sono importanti, a me è capitato di vincere il campionato di Serie B e quando poi alla fine fai anche 5-6 pareggi sono quei punti che ti servono ad avere una posizione di classifica comunque che sarebbe importante. Ora parlare di classifica importante aspetterei un attimo perché direi che siamo sempre abbastanza convalizzanti e siamo venuti fuori ora da un momento abbastanza difficile basta ricordarti un po' dove eravamo prima della partita con Vicenza. prima della partita con Vicenza. Silvano? Io ero qui dopo la partita col Perugia mi ricordo e in modo di dire che secondo me per la prima volta vedevo la Ternana che ha giocatori adatti da ogni reparto dunque portiere bravo difensori adesso indipendentemente da chi fa giocare però la Ternana con 4-2-3-1 4-3-3 secondo me ha i giocatori adatti per fare quel tipo di gioco dopo quel Perugia è andata comandata però voglio dire non è che abbiamo subito il Perugia io almeno non l'ho vista dunque da questo punto di vista secondo me la Ternana non può che migliorare quello che stai dicendo tu io lo condivido nel senso che se adesso riusciamo a fare risultato in queste partite e se nel calcio non esistono però fare risultato in queste partite è importante però secondo me l'approccio alla gara che è alla Ternana a me deve essere nostro non piace nel senso che io ho visto quella di Ascoli non è pensabile che noi andiamo a giocare ad Ascoli e non ci aspettiamo che loro la mettono sotto un altro aspetto che non è quello tecnico non è quello tecnico tattico o di loro la mettono sul profilo fisico perché loro hanno aggressione 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 vabbè sì più che aggressività era aggressione perché erano botte da tutte le parti sì però voglio dire noi lo dobbiamo sapere perché è possibile non andare a giocare quella partita perché noi di fatto dobbiamo giocare al secondo tempo e nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione per fare anche il pareggio e poi eventualmente giocarsi la partita fino alla fine però secondo me l'abbiamo subito troppo dunque anche domenica con il Como che è vero veniva da risultati importanti però io ho visto una squadra dietro soprattutto secondo me disastrosa però i risultati li aveva fatti precedentemente parli del Como parlo del Como adesso sì è una squadra lenta compassata poi anche con senza grandissime individualità perché chi secondo me doveva fare la differenza era qualcuno davanti non l'ha fatta perché noi eravamo un po' stati bene perché eravamo messi bene in campo perché tutta una serie di cose però voglio dire noi secondo me se vogliamo fare il risultato qualcosa in più bisogna che facciamo sotto il profilo proprio della mentalità aggressiva rispetto alle partite che dobbiamo fare perché se noi la vogliamo giocare solo e esclusivamente sotto il profilo tecnico e tattico sì sappiamo giocare ma non sempre ci lasciano giocare come diciamo noi tu hai l'esperienza giusta per vedere queste cose per analizzarle il mister anche non ho questi dubbi però secondo me noi bisogna che cambiamo mentalità da questo punto di vista l'unica nota stonata che io riesco a vedere è questa dunque più aggressivi più determinati più cattivi proprio cattivi nel contrasto forse la cattiveria non è nel DNA di questa squadra forse però è una squadra portata a giocare sicuramente l'abbiamo messo domenica insomma quando la lasci giocare ti fa male e non mi riferisco soltanto a Falletti che chiaramente adesso ha raggiunto una maturità importante che riesce a saltare l'uomo in tutte le parti del campo mentre prima lo faceva soltanto in alcuni casi adesso lo fa sempre e dunque questa è un'arma in più perché saltare un uomo quando stai sulla tre quarti sai benissimo che mette in difficoltà il squadro avversario sì ma sono sono perfettamente d'accordo tant'è che anche quello che a volte nei dopo partita mi è capitato mi è capitato di dire io penso che questa sia una squadra che dal punto di vista qualitativo sia molto forte nel senso che noi abbiamo giocatori che comunque tendono a giocare e le caratteristiche principali sono quelle insomma la lotta forse viene un po' dopo soprattutto dal centro campo in su Ceravolo Falletti Furlan Belloni Avenatti lo stesso Gondo sono giocatori di qualità e sono perfettamente d'accordo con te tant'è che spesso quando abbiamo fatto i risultati l'abbiamo fatto con squadre anche importanti che magari ti lasciano anche giocare e magari abbiamo fatto più fatiche con squadre come Lentella mi viene in mente come Lascoli che si ha impostato la partita e fra le altre cose dal punto di vista fisico penso sia una delle squadre più strutturate del campionato parli di Chiglie e Centine parlo di quello e quindi sono perfettamente d'accordo è anche vero che se in una squadra del genere riesci a trovare una quadratura che riguarda anche l'aspetto che descrivevi allora poi comincio a parlare anche di una squadra veramente importante un po' miglioramento che è stato quello mi sembra da quello che si è no siamo stati siamo stati da questo punto di vista specialmente magari molto altalenanti ad esempio Avellino le squadre che ci hanno magari attaccato subito ci hanno messo effettivamente in difficoltà però l'importante è esserne credo anche coscienti saperle cercare di lavorarci mister lo sa noi lo sappiamo e quindi ultimamente ci stiamo lavorando e le cose sono un po' migliorate la partita di Ascoli è anche una partita molto particolare da tutte le altre perché è vero loro l'hanno messa sulla cattiveria e tutta però è anche vero che dopo 20 minuti dovranno giocare 9 c'è anche quello perché un conto è metterla sull'agonismo un conto è fare altre cose però giustamente vai a Ascoli in una condizione del genere devi sapere che comunque davanti trovi una squadra del genere devi cercare di contrapporti perché probabilmente anche con la partita lì se non avessimo subito gol in quei 20 minuti probabilmente l'avremmo portato a casa magari anche un punto di cui si parlava prima però sono d'accordo assolutamente quindi è uno degli aspetti in cui dobbiamo cercare di lavorare ma quanto si può migliorare perché io dico il carattere un certo tipo di carattere o ce l'hai o non ce l'hai se sei portato comunque a giocare è difficile che ti posso chiedere di fare un po' lo stima e la convinzione però lo fanno io penso che questa è una cosa che migliori molto anche con i risultati appunto nel senso che se ti rendi conto che poi un determinato approccio e ti porta avere dei benefici importanti poi ti viene in automatico qui non si tratta di giocatori che hanno caratteristiche o magari di tecniche importanti che si deve mettere a picchiare qui si parla di andare a prendere da subito magari una squadra nella prova metà a capo metterla subito sull'intensità e noi questo abbiamo dimostrato di averlo non lo facciamo sempre con il Vicenza l'abbiamo fatto con il Vicenza ma secondo me l'abbiamo fatto anche a Vercelli perché guardate che a Vercelli dal punto di vista fisico è stata una partita molto difficile molto dispendiosa tant'è che vedrete l'abbiamo detto anche subito la partita che a Vercelli non è facile far punti e tu sei andato secondo me bene in quella partita dell'ultimo mese quella che hai sbagliato approccio è sicuramente quella di Ascoli perché magari siamo arrivati sì ce l'aspettavamo ma non ce l'aspettavamo così tanto e soprattutto siamo arrivati magari dopo una vittoria a Vercelli che non voglio dire che ci ha spento un attimo però se l'avessimo giocato tre giorni dopo quella partita lì forse l'avremmo approcciata diversamente Ascoli era un ambiente particolare in fase di radio cronaca l'abbiamo anche descritto voglio dire fra la panchina della Ternana e la bandierina del calcio d'angolo c'erano quattro giocatori dal primo minuto della partita che stavano facendo riscaldamento per scherzo per finta forse ne avrai visto anche tu incoraggiavano i compagni e insultavano magari e invece gli avversari sono volate bottoniette di acqua minerale di plastica l'ambiente particolare dove non arrivava allenatore due palloni in campo altro una cosa niente un po' particolare nel 2015 in Serebino dovrebbero accadere queste cose senti Luca ma dicevi prima a margini di miglioramento dicevi buoni margini di miglioramento anche perché credo di aggiungere adesso hai scoperto Grossi ma c'è ancora una carta da scoprire quella di Signorelli che è un punto interrogativo sul piano del rendimento che può dare dell'apporto qualitativo qualitativo sicuramente non possiamo metterlo in dubbio ma il suo inserimento all'interno di questa squadra è un altro di quei giocatori che può essere un po' la ciliegina sulla torta della rosa rosso verde secondo me ci sono tanti ragazzi che possono diventare ciliegine in questa squadra il fatto è che non ci scordiamo la nostra partenza sono arrivati me compreso giocatori che non avevano fatto comunque la preparazione Paolo Grossi è uno di questi perché Paolo qualche anno che faccio questa categoria qualche anno che ci gioco contro Paolo è il giocatore che abbiamo visto sabato magari l'abbiamo dovuto aspettare un po' di più perché nella crescita fisica purtroppo qualcuno è passato dagli infortuni e uno di questi è Signorelli che purtroppo ha avuto un infortunio un po' più lungo degli altri è un giocatore che ha caratteristiche fisiche particolari quindi ci mette anche lui un po' più di tempo e ci metterà un po' più di tempo a recuperare bene è un giocatore che effettivamente magari come caratteristiche in questa squadra è quello che forse manca un po' di più che quello che può dare qualche tempo in più in mezzo al campo insomma è un ragazzo d'ordine uno che sa star bene in campo penso che insomma l'avevamo preso il direttore l'avevamo preso per quello purtroppo volento non è mai riuscito a dare l'apporto che può dare proprio per questi infortuni non è mai stato benissimo fisicamente ripeto abbiamo tre partite alla fine poi ci possiamo mettere veramente bene dal punto di vista fisico perché comunque avremo un periodo dove sarà un mini ritiro quello che sarà e quindi recuperando anche questi tipi di giocatori è chiaro che ci faranno più che comodo senza togliere niente a quelle che fino ad ora stanno tirando la carretta e avvolgendo il nastro l'impressione è che questa squadra questa squadra questo organico esattamente com'è se fosse stato assemblato 20-25 giorni prima senza dubbio avrebbe avuto un avvio di campionato diverso e senza dubbio adesso avrebbe avuto una classifica molto migliore tre settimane abbondanti 25 giorni di ritardo sono tanti parlo della condizione atletica e per certi versi anche della coesione tattica ma è un po' di tutto chiaramente se avessimo lavorato insieme il ritiro le cose sicuramente non sarebbero andate peggio perché è normale il ritiro si fa si fa per questo si fa per quello quindi invece dei volti nuovi solo furlana è stata con gli organici quasi completi di solito tutti gli altri che compreso si sono aggregati a Terni dopo la fine del ritiro sì però questo lo sapevamo chi è venuto qua sapeva che c'era un cambiamento che si stava andando verso un cambiamento e quindi abbiamo accettato la sfida sapendo che partivamo in ritardo rispetto alle altre il fatto è che partendo in una maniera diversa prendendo fiducia un po' prima i campionati cambiano la differenza la fa molto spesso proprio i risultati mi ricordo a Livorno l'anno che abbiamo vinto noi abbiamo vinto ma con la stessa squadra che l'anno prima si era salvata all'ultima giornata abbiamo lavorato insieme con l'allenatore bene un mese e mezzo siamo partiti abbiamo vinto cinque partiti di fila e da lì era diventato difficile fermare guarda che è successo anche all'Empoli la squadra che si è salvata alla fine nei play-off nei play-out si è un po' chiedendo a Crotone tutti gli anni ne cambia ne cambia 20 è vero sono molto no loro sono molto bravi a scopare certo poi non è facile poi magari qualche anno si si ma in quello di secondo me sono molto bravi in quello nel senso negli ultimi anni anche due anni fa ha fatto mi ricordo insomma aveva pure da Trosone Bernardeschi Cataldi insomma durante che ora sta facendo qualcosa in serie allora noi ci fermiamo un attimo pubblicità e poi torniamo insieme con il nostro notte goal linea ad Alberto Francioli ah un attimo allora io ne approfitto per dire una cosa direi importante perché domani mattina nella sala della direzione generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria dei Terni la fondazione chiudiamole a vivere e consegnerà la sonda pediatrica cardiologica appunto per il reparto di cardiologia dell'ospedale di Terni quindi è un altro obiettivo che è stato raggiunto dalla fondazione aiutiamoli a vivere uno strumento importantissimo per proprio per cercare di prevenire e diciamo individuare in modo direi molto molto scelere quelle che sono le problematiche relative appunto ai bambini quindi questa sonda pediatrica tra le altre cose che verrà intitolata a David Raggi il ragazzo che è deceduto appunto in condizioni tragiche qualche mese fa qui a mese di aprile credo quindi domani mattina appuntamento alle 10.30 verso la sala riunioni appunto dell'ospedale se possiamo andare con la pubblicità andiamo allora leggiamo anche un paio di messaggi velocissimamente c'è quello di Stefano Santini che insomma augura a tutti la buona serata volevo fare i complimenti al nostro porterone che sta dimostrando domenica dopo domenica il suo valore dentro e fuori del campo dimostrando gran carattere e personalità forza Luca speriamo di aver imboccato la strada giusta questo è il il primo commento c'è anche Andrea no Andrea Davanti è troppo lungo leggiamo dopo ce n'è un altro un po' più corto di Luca Traversi un saluto a Luca Mazzoni tra gli elementi più continui come prestazioni insieme al capitano dell'Effere Vitale per lui si profila una stagione straordinaria spero che la larga vittoria sul Como dia convinzione dei propri mezzi alla squadra è ora di cogliere altri successi e avanzare in classifica come sempre gli assenti hanno avuto torto una nota di merito ai giovani Valiante Gondò Palumbo sono già una bella realtà indispensabili alla causa rosso-verde questi giovani rosso-verdi sotto le vostre ali insomma soprattutto dal punto di vista caratterialmente forse siete voi che le aiutate dovreste aiutarli a crescere sul piano tecnico credo debbono crescere anche lì però la base mi sembra abbastanza solida io sono rimasto quasi scandalizzato perché all'inizio non lo conoscevo non sapevo quanti anni aveva da Marti a Valiante che francamente francamente non è che aveva bisogno di una grossa mano dal punto di vista caratteriale anzi è un è un computer è un giocatore già fatto soprattutto dal punto di vista del carattere perché è uno che a parte che è polivalente insomma ho visto giocare a mezzo al campo ho visto giocare a difesa ma l'ho visto in allenamento fa il terzino quindi è un giocatore straordinario da quel punto di vista lì forse lui più che dal punto di vista caratteriale con le prestazioni imparerà ancora di più a star bene in campo e questo è veramente uno forte secondo me ovunque gioca i giovani nostri sono qualitativamente sono superiori alla media che ho visto in Serie B francamente ho visto un altro molto bravo è Antonio Palumbo che credo sia uno dei migliori 96 in giro per quello che ho visto io poi ci sono i giovani sono tanti perché lo stesso Belloni è un ragazzo giovane molto interessante ma Gondo è uno che comunque non ci scordiamo che è il primo anno nei professionisti ha fatto solo la primavera quindi che lui ha bisogno di un po' di tempo però insomma si è già abbastanza integrato abbiamo dei giovani sopra la media che poi secondo me sono importanti perché nei momenti anche un po' più difficili sono quelli che comunque riescano sempre a darti un po' di entusiasmo e devo dire che si sono comportati sempre molto bene ma questo è un gruppo dal punto di vista dell'educazione del rispetto dello spogliatoio molto valido questo è importante perché altrimenti rischi quando ti trovi in determinate situazioni di non uscirci e invece è stato una delle cose per cui siamo sempre andati al campo convinti di poter magari uscire da una brutta situazione e sono contento di questo perché non è facile comunque trovare sempre gruppi così così uniti è una cosa che almeno per me è molto importante soprattutto in questo campionato c'è una fotografia di Stefano Principi che testimonia subito dopo il gol che testimonia un po' effettivamente l'unione della squadra non è che uno festeggia per conto suo ma questa vuole dire che sia emblematica anche il fatto l'abbraccio a Felipe che forse è il giocatore che dal punto di vista è un po' più diciamo in difficoltà rispetto agli altri le qualità di Felipe credo le conoscano un po' tutti è un problema forse di convinzione nei propri mezzi di ritrovarsi da questo punto di vista anche se a me a Vercelli è piaciuto tantissimo perché ha disputato una gran partita credo quindi le qualità di Felipe sono indiscutibili Felipe è magari uno di quei giocatori che ti fa un po' arrabbiare perché dà la sensazione sempre di poter vincere le partite da solo di poter essere devastante magari con degli atteggiamenti che non sono atteggiamenti di superficialità ma sono proprio il suo modo di stare in campo spesso che magari al di fuori lo fa sembrare a volte un corpo estraneo e non è così perché stando rispondato con Felipe ti rendi conto quando le cose magari inizialmente non riuscivo a farle nelle difficoltà che comunque ci stava male dobbiamo aspettarlo perché è un giocatore importante poi dobbiamo aspettarlo insomma ultimamente le prestazioni sono sicuramente migliorate tant'è che poi a Vercelli secondo me ha fatto un'ottima partita Ascoli forse Felipe fisicamente non è ancora in grado di fare due partite di fila perché comunque è venuto anche lui da una preparazione un po' particolare insomma c'era un po' di problemi intorno a lui però poi ha trovato il gol sabato perché poi insomma è uno che lo può fare è chiaro che se questo diventa una costante per noi è un'arma importantissima senti il gruppo tutti dite la stessa cosa da pochi giorni dopo che stavate insieme tutti questo è un buon gruppo spesso nel calcio è una frase fatta quando le cose vanno bene il gruppo è buono quando vanno male c'è sempre qualche qualche problema il gruppo è buono perché è riuscito a venire fuori quasi completamente da una situazione particolarmente difficile di classifica di squadra perché non capivamo nemmeno forse nemmeno come doveva giocare chi doveva giocare in questa squadra da una situazione ambientale complicata perché un punto in cinque partite la gente non viene allo stadio vi fischiavano prima ancora di entrare in campo o prima ancora di cominciare la partita qualche giocatore è stato bersagliato in modo pesante anche tu per dire prima partita qualcuno è in dubbio Mazzoni insomma con tutta la bontà non perché sei qui ma basterebbe andarsi a vedere quello che ha fatto uno in carriera per capire che ci può stare un errore un ritardo di condizione quindi siete venuti fuori insieme nessuno ha sofferto in modo particolare siete riusciti voi a tirarli su una certa situazione infatti io penso che hai detto bene te spesso sono frasi fatte poi ci sono poi ci sono le circostanze ti dico una cosa io ho visto l'ascoli quando siamo andati là io non credo che l'ascoli sia una squadra scarsa perché non lo credo proprio secondo me a ascoli ci sono altri tipi di problemi noi che non è una frase fatta l'abbiamo dimostrato perché comunque quando si parte male in questo modo e comunque ci sono dei problemi che non dipendevano poi necessariamente sempre solo da questa squadra perché tanti sono arrivati quest'anno magari a Terni ci sono problemi da qualche anno storici e abbastanza storici e radicati appunto non è che abbiamo fatto fronte stiamo facendo fronte perché comunque ancora la situazione di classifica è da prendere con le molle perché siamo è vero ora siamo a tre punti da play out però siamo a due punti da play out e andiamo a Cesena però quello che mi piace di questa squadra è che comunque dopo ogni batosta puntualmente ha reagito e quello vuol dire che comunque c'è uno spirito importante Luca dicevi delle difficoltà della prossima trasferta il Cesena costruito per centrare la promozione diretta Foschi si nasconde la società ribadisce che non può intervenire nel mercato di gennaio per problemi economici a tutti i noti ma a oggi l'organico comunque allestito in estate è di primissimo ordine credo che il Cesena sulla carta sia tra le 4-5 squadre migliori eppure nelle ultime 6 partite ha raccolto 5 punti allora due domande in una ritieni che questo faccia parte dell'imponderabile che caratterizza spesso la B in particolare questa edizione della B o immagino una flessione del Cesena seconda domanda c'è il rischio di capitare nel momento sbagliato nel posto sbagliato tipo Ascoli? no non c'è il rischio è una certezza non è la prima volta non è la prima volta che ci succede perché l'esperienza di Ascoli aiuta sì non non sarà lo stesso amico nel senso che Cesena parte che il Cesena è uno stadio che è un posto che comunque ti dà su da subito motivazioni perché è un impianto bellissimo sarà una bella connici di pubblico quindi loro hanno 10.000 abbonati è una cosa bella andare a giocare in quegli stadi e comunque il Cesena è una squadra che conoscendo bene io conosco abbastanza bene l'allenatore gioca giocherà a calcio il Cesena in qualunque modo in qualunque situazione è una squadra che giocherà proverà a giocare a calcio poi ci sono dei momenti come stai giustamente dicendo te ma perché la Serie B ragazzi guardate è veramente molto equilibrata cioè è difficile pensare di se ti capitano cinque partite difficili in un momento dove non stai bene c'è l'infortunato oppure sono delle situazioni particolari ti capita di far di far fatica nello stesso Gagliari che è una squadra che secondo me alla fine vincerà al campionato con qualche punto di vantaggio nell'ultima partita ha fatto qualche passo ha zoppicato un po' qualche passo il Cesena è un'ottima è un'ottima squadra il Cesena è un'altra squadra che ha diversi giovani in campo che magari in certi momenti possono anche o credersi troppo bravi oppure credersi non troppo bravi e quello fa parte della decità di una squadra relativamente giovane però ha delle qualità insomma importanti Senti Drago è un allenatore bravo che ha fatto molto bene a Crotone questa è la prima volta che esce da Crotone e trova qualche difficoltà ci può stare anche questo tipo di problema cioè far passare la sua filosofia di lavoro di gioco in un ambiente che non è il suo che non è più il suo dove andavi lì a giocare e sapevi che quella era la regola Drago è uno dei pochi allenatori in Serie B che che riconosce le squadre insomma è uno che incide molto sulla squadra può essere però insomma il Cesena ha una situazione di classifica comunque buona io ricordo che anche Drago l'anno scorso all'inizio a Crotone l'ha cambiato tanto e un po' di fatica l'ha fatta però a parte che ha qualche giocatore con cui ha già lavorato quindi conoscono un po' la filosofia ma semplicemente poi c'è anche da dire che a Cesena si aspettano è un altro ambiente dove le persone si aspettano che Cesena possa giocare per vincere il campionato e quindi magari certe situazioni vengano anche ampliate però Drago è un bravo allenatore e su quello discuterei e discuterei poco immediatamente al rendimento casalico Cesena vanta numeri eccellenti in linea con la qualità teorica dell'organico se non vado errato una sconfitta col Bari un pareggio e sette vittorie in nove gare tanta roba sì ma credo che la cifra la cifra tecnica sia quella insomma poi ti ripeto Cesena è anche un ambiente dove giocare in casa è veramente un piacere è sicuramente uno stadio che ti dà qualcosa in più ma per conformazione per tutto insomma 10.000 abbonati è qualcosa è importante quando poi in uno stadio di 10.000 abbonati un altro messaggio leggiamo quello di Manny London che dice posso sbilanciarmi se risolviamo i problemi dell'impostazione centrale difensiva sembra che siamo sulla buona strada la Terna è la squadra più forte di quelle viste le grandi non hanno visto palla con noi Bari Crotone Pescara Cagliari colgo l'occasione per sciogliere un malinteso la settimana scorsa quando scrivevo auspicando di prendere due sostituti per Ceraul e Avenatti intendevo due riserve e non due titolari al posto loro questo è Manny London insomma mi sembra che la tenuta difensiva nell'ultima settimana sia un po' ad eccezione di Crotone dove vuole dire poi la situazione è precipitata per le due espulsioni insomma da questo punto di vista è cresciuta anche questa compattezza difensiva Sì i risultati sono arrivati anche perché sicuramente abbiamo preso meno gol quando abbiamo perso abbiamo perso 3-0 quindi c'è poco da rimarci sopra 3-0 e Bugliardo secondo me No quello di Crotone sì quello di Crotone è Bugliardo ma se andiamo a vedere quello di Avellino che ha fatto la peggior partita però Cioè Avellino con la partita li ha tirato quattro volte in porta quindi è stata proprio però abbiamo sofferto sì abbiamo sofferto molto meno ma perché indipendentemente da chi gioca lavora il mister è comunque uno che sulla fase difensiva ci lavora ci lavora molto mi ricordo quando fece il campionato bellissimo a Latina insomma Latina era una squadra a cui non riuscivi mai a far gol magari vinceva una partita non a zero non era una squadra spettacolare non aveva neanche una grossa cifra tecnica però la fase difensiva la facciamo molto bene il mister è uno è uno che ci tiene quindi ci sta lavorando le cose stanno migliorando possono possono migliorare migliorare ancora perché perché devono migliorare ancora secondo me certe cose dobbiamo dobbiamo ancora recepirle e farle ancora di più nostre Allora un altro messaggio prima di vedere una clip che abbiamo preparato Francesco Fortini lo ribadisco da diverse giornate ci si esalta per un risultato positivo è un po' la piazza diciamolo per poi abbassare la cresta dopo la sconfitta successiva ci manca ed è un dato oggettivo la continuità non credo che sia nella nostra indole anche perché è diretta conseguenza del carattere di cui forse siamo privi forse mi sbaglio ma su questo aspetto voglio essere pessimista in attesa di essere smentito un pensiero inoltre su Avenatti che seppur abbia segnato è lontano dall'essere il migliore Avenatti dell'anno scorso dunque purtroppo è anche lontano da quelle qualità dice Fortini Francesco mi sembra non ricordo ecco adesso ho perso ho perso il messaggio scusa lo leggo lo leggo più tardi perché ah no eccolo purtroppo è anche lontano da quelle qualità che potrebbero permettergli di migliori non so se è solo mancanza di carattere e di sicuro è privo di una certa cattiveria agonistica sempre necessaria in serie B che nelle altre serie dunque dice che Fortini asserisce insomma che l'ha sempre difeso nel chiacchiere da bar ma l'ha vista troppe volte essere anticipato essere rimontato dal difensore avversario perdere i duelli di testa difendere con successo il pallone per perderlo solo per effettuare un confronto un occhio a De Bagua del Como che secondo me ha fatto una buona partita seppur senza segnare sicuramente non ha presa mai mi sembra il Bagua contro la Ternana penso sia stata la peggior partita che ho visto fa e Bagua non mi è sembrato quando parlo di casualità tante volte ne parlavo con Breda mi pare alla fine della partita di sabato Ternana Avellino inizia la partita contrasto Masi con l'amico di Luca contrasto falloso cosa che adesso mi ha detto vabbè comunque Masi va a terra perde la palla subito gol subito gol ok con il Como inizia la partita e Bagua Gonzales va a terra Gonzales va in contropiede e Bagua poteva essere un'occasione pericolosa si perde il pallone è scivolare allora la casualità nel calcio è veramente cambiano anche l'inerzia della partita poi magari la Ternana avrebbe vinto ugualmente l'Avellino avrebbe vinto ugualmente gli episodi ci sono molto spesso i campionati figuriamoci le partite a lui dice pure mi aspetto troppo da Avenatti probabilmente le attese della diffusione della Ternana è un po' troppo elevata forse su Avenatti forse c'è anche questo particolare aspetto non lo so forse ma credo che anche lui abbia da pretendere di più da se stesso un saluto e scusate se sono stato troppo prolisso questo è il commento di Francesco se Avenatti non fosse così importante per la Ternana e uno poi riuscisse a lasciarlo un po' tranquillo penso che ritornerebbe in sé automaticamente Avenatti ha passato un periodo non ha fatto la preparazione perché pensava giustamente ma io cioè vent'anni ce l'abbiamo avuti tutti io tanto tempo fa che nemmeno mi ricordo com'erano praticamente però ce l'abbiamo avuti tutti e a vent'anni se ti dicono vai lì vai di là vai in Inghilterra vai in Spagna vai a Juventus ci sta che vai un po' un po' fuori di testa ti all'animale poi dopo ritornare nel tuo habitat diventa complicato poi ci sono state anche storie tra i manager e la società adesso non è più come prima non è stata una trattativa andata a monte è stato sono stati due mesi di discussioni su Avenatti forse di più forse di più perché a giugno Avenatti era del Cagliari praticamente sono stati due mesi e mezzo di discussioni su Avenatti con la società che discute con il manager poi cambia la sua fraternana i manager che non si sa più con chi dovevano parlare le azioni che non hanno favorito sicuramente cioè un ragazzo di vent'anni che sono due anni che è un anno in più voglio dire la trasformazione di Falletti dall'anno scorso o da due anni fa ma come cambiano le cose l'anno scorso era Avenatti che tirava su Falletti ricordo sempre il gol di Perugia che ancora stiamo qui a discutere se era di Falletti o da Avenatti allora Avenatti no ha segnato Cesar perché doveva spingerlo adesso Falletti è diventato che ti devo dire un uomo squadra un leader in campo almeno e aiuta il compagno quindi sono ribaltate le cose sono ribaltate sono situazioni che cambiano nei giovani in modo particolare quindi un attimo ti ripeto secondo me è molto importante chi sta vicino in questo caso il suo manager o il suo procuratore i ragazzi che giovano con lui perché a vent'anni puoi perdere la testa questo è chiaro puoi però non è detto che puoi no no dopo di che stai in serie B non è che stai facendo un campionato stai in serie B con una squadra che secondo me in modo del tutto improprio si trova a lottare per non retrocedere ma che comunque ha tutte le potenzialità per fare bene secondo me perché ha giocatori giusti al posto giusto che possono fare molto di più compreso lui secondo me Avenatti può fare tantissimo di più ma questo ce lo sanno anche loro ma questo è negabile per le qualità che ha appunto proprio per le qualità che ha perché se non c'era le qualità è un ragazzo che si deve solo si deve sgravare di magari responsabilità che qualcuno le ha messo esatto gli hanno caricato sto gioco sulla testa secondo me che non mi ha aiuta per niente no penso di no anche perché quando sono arrivato a me dicevano davanti abbiamo Venatti come se la Ternana dipendesse e fosse già fatta perché c'è e questo non è che i giocatori non lo sentono poi ci sono quelli che metabolizzano una cosa che si alimentano da una parte eccetera poi ci sono quelli che invece non riescano a levarsi di dosso questo peso se lui se ne sta sereno e tranquillo e pensa a far solo quello che sa fare a qualità per poi poter andare da altre parti tranquillamente però insomma stai facendo la Serie B che è comunque un campionato importante e di questo comunque devi essere cosciente perché comunque anche per lui è un anno importante l'anno scorso ha fatto un ottimo girone d'andata si è afflosciato nel ritorno quest'anno sicuramente qualcuno le ha messo gli occhi addosso però deve essere costante perché sennò poi è un attimo ricordarsi di non giocare calcio non è che non aspetta non è che poi aspetta tutto aspetta nessuno però le qualità secondo me diventa difficile discuterle andiamo allora andiamo con questa clip che abbiamo realizzato ci siamo messi lì con Dario Brighi Vincenzo Pulpiani quindi abbiamo messo un po' insieme alcune situazioni credo importanti le papere di Mazzoni si l'abbiamo messo in giro già con questa è imperdonabile questa non la dovevi fare Luca vai tu che tu sei questa è la partita di Latina tra l'altro le tre trasferte accumulate dallo stesso risultato 2 a 1 dalla stessa successione delle reti vantaggio momentaneo per il giro avversario e nuovo gol decisivo e tutte con la firma di Mazzoni che sia a Latina sia a Pescara sia a Vercelli ci ha messo più di una pezza questa parata è stata straordinaria qui eravamo nel secondo tempo io dovevo andare in presa però vai questa è veramente una parata eccezionale si certo ho dovuto bloccarla poi lanciarsi andare a segnare però vabbè glielo perdoniamo l'ha fatto un portiere saluto alla tribuna qui credo fosse il nuovo entrato Bandinelli che tra l'altro giocava la primavera della Fiorentina con Gondò secondo me un ragazzo interessante questo peccato che non giochi mai peccato per il Latina e anche questa secondo me è una parata è una parata complicata è difficile molto molto non per lui e anche qui eravamo se non erro sull'1-1 quindi con il risultato no qui mi sa eravamo già sul 2-1 ma che dopo c'è un caccio da 1 dicevamo qui qui questa parata voglio dire a Pescara ci ha salvato il risultato e qui eravamo sull'1-1 eravamo sull'1-1 è chiaro che se Luca Mazzoni non ci avesse mai sono pezza insomma la partita si sarebbe vista veramente male ancora siamo un po' la stessa abbiamo presa a Vercelli ma anche a Tascoli a Tascoli la stessa situazione qui siamo un po' difettiamo un momentino gran palla di Caprari per la Padula e il nostro portiere veramente si oppone alla grande poi voglio dire la conclusione ravvicinata sarà credo a 3 metri poi qui c'è stata la terza gara esterna vinta come dicevamo prima con analogo risultato e analoga dinamica dei gol una nuova successione dei gol questa partita penso di aver toccato questo e un altro pallone questo ci ha potevato anche un po' però queste sono parate comunque nel senso voglio dire tiri nello specchio il portiere che si tuffa lo blocca ma la parata decisiva credo che sia quella sul calcio d'angolo con l'incornata di Colino non so se c'è stato messo ma questa è Beretta Beretta bel giocatore ha fatto ha giocato molto bene anche col Cesena si si ha fiscato tra l'altro è uscito la parata e questa è una bella parata su un colpo di Staticoli e anche qui eravamo sull'1-1 insomma mi sembra mi sembra evidente lo dicono le immagini che si sull'1-1 e poi ha fatto col Palumbo sì al novantesimo queste vittorie esterne ci sia il timbro del portiere sì assolutamente anche del portiere senza dimenticare quell'interno perché insomma ce n'è una ce n'è una ci l'abbiamo messa una l'abbiamo citata prima che forse è l'unica partita l'unica partita che la Trenana quest'anno abbia vinto al di là dei propri meriti quella in casa con Novara con Novara e poi Novara ha fatto quello che ha fatto ecco la bella con Novara qui è bella questa uscita subito in avvio su Gonzales non è neanche il calcio vengo perché ha fatto bene no perché parla va a carambolare di nodule sui piedi dell'attaccante argentino sul sul ginocchio mentre vediamo queste immagini sei soddisfatti come sono andate le cose per te in questa quando sono 13 dunque 15 partite credo no 15 15 no sono sono soddisfatto sì sono soddisfatto soprattutto perché questa è bella questa parata su questo diagonale a incrociare soprattutto perché quando ho iniziato non avevo iniziato bene e sapevo che non stavo non stavo benissimo purtroppo è stato il primo anno che mi è capitato di non fare non fare la preparazione e l'ho pagata dal punto di vista fisico l'ho pagata poi sai per un portiere è importante è importante stare in porta è importante avere la continuità quando ti manca la porta per 3-4 mesi un po' di fatica la fai poi per il resto sono soddisfatto resto bene fisicamente la squadra mi dà francamente anche una grossa mano in questo momento credo che questa sia la partita dove veramente abbiamo forse è rischiato più di tutto poi ultimamente insomma quando si tratta di di cercare di metterci una pezza si prova però non è che ci hanno mai messo in grossissima difficoltà che parla del rigore in movimento eh sì che era Casarini mi sembra sì sono soddisfatto anche qui la palla schiaffeggiata sul palo perché altrimenti sarebbe entrata è Luca Mazzone che la schiaffeggia sul palo desto infatti il proprio Dario Brighi mi diceva ma la toccata la toccata sì sì la toccata e ce l'avevamo messa a fine partita un paio di giornalisti del Novara chiedevano parlando tra di loro auspicavano sia con le maniche con i piedi seduto destro auspicavano le sonore di Baroni poi il Novara da quel giorno ha raccolto 9 vittorie in 11 partite non so cosa stia facendo stessi con Travoni si sentiva a rischio perché era a rischio no era a rischio perché poi aveva già chiamato l'allenatore io lo sapevo perché non stava dentro scogliato l'allenatore ma girava sulle tribune allora abbiamo visto un po' queste un'altra cosa ma prego prego poi la settimana scorsa ha vantaggiato ha reso merito alle due parole ha certificato le due parole dopo quel gol preso con il Livorno non accassi non accassi risposto a me che non conoscevano per dire nel dopo partita vantaggiato in quelle situazioni la stoppa di petto e la mette col piede evidentemente sapeva che io lo sapevo e ha colpito sull'alladena ha fatto quel gol Daniele domenica passata però sì sì la nostra perfesa un giocatore vero è appunto un bell'animale nella partita con Livorno poi io ci ho parlato con Daniele perché ho anche un ottimo rapporto con lui me l'ha anche confermato me l'ha detto anche una brutta parola ma insomma te l'ho messo capiamo dove conoscendo io ho letto ma la situazione perché ero veramente convinto che da quella posizione conoscendolo mettesse giù la palla e calciasse e lui è stato bravo e mi ha preso un contro mi ha preso un contro però Daniele è un giocatore che poi mi sembra abbia fatto un gioco e ha saltato 5 partite non ha giocato 13 io ricordando le parole ho rivisto il gol e ho detto guarda quel movimento lì Daniele è un movimento che fa costantemente quindi cioè io era andato proprio sul sicuro e lui era concedetemi una parentesi di un minuto senti scusa però lasciamela a me non so quello che vuol dire però intuisco sul padua la faccio io la domanda ecco bravo la faccio io perché allora Luca Giovannetti devi sapere che da un paio d'anni a questa parte prima c'era la Reggiana da un paio d'anni a questa parte dice non riesco a capire come il padua a grandi firme possa essere retrocesso perché siccome tu purtroppo giocavi in quel padua spiega che la Luca Giovannetti una volta per tutte per perché ha distanza più anni non mi ha detto il padua il padua a grandi firme è finita a gennaio di quell'anno quando Cestaro ha smesso di pagare la sua età che non ha neanche cominciato però c'è da dire una cosa quella era una squadra forte che se tutti si fossero comportati da da uomini diciamo senza senza trascendere probabilmente avrebbe comunque salvato l'annato invece purtroppo quella era una squadra con tantissime qualità morali poche e quando ti trovi in un anno dove la società da gennaio in poi non esiste più tant'è che poi non sono falliti stanno ancora permettendo di di fare un po' quello che vogliono vabbè quello è una divagazione che lasciamo perdere non fa parte del calcio però con una società inesistente una una piazza importante che dà dà pressioni perché comunque Padova è una è una piazza importante e con giocatori che hanno preferito pensare a altre cose che piuttosto che a salvare magari il salvabile la fine è stata è stato quello nonostante che abbiamo avuto anche tre allenatori tre allenatori secondo me ognuno a modo suo bravi che non è che siamo capitati in mano a uno che ha fatto disgrazie anzi abbiamo avuto tre allenatori siamo partiti con Marco Lin che era un buon allenatore abbiamo avuto Mutti che era comunque una persona di esperienza che ci aveva dato anche una mano poi c'è stato Serena che è un altro un altro in gamba però secondo me quell'anno lì sono state proprio sbagliate le scelte le scelte iniziali si è puntato su giocatori che di voglia ne avevano poca tant'è che poi da quell'anno sono venuti fuori i giocatori che erano venuti a fare la panchina tipo Melchiorri la man presa non aveva mai giocato ha giocato lui ma se mi ricordo la squadra che avevamo quando io che ho vinto il campionato a Livoni sono tappato ma inizio anno e io quando sono arrivato lì ho detto se ci gira bene quest'anno posso iniziare altro campionato è quello che dicevo io sulla carta era da promozione ho capito però sulla carta Melchiorri vantaggiato poi è arrivato Rocchi poi vai a vedere la squadra la squadra l'elenice Santa Croce in difesa Morezzi al centrocampo cioè non era una squadra formidabile il problema è che secondo me c'era troppi nomi e non mi fanno i nomi se non c'era voglia devi fare una squadra non devi e poi ti ripeto con le probabilmente quella è una squadra che con Cestaro si salva perché a qualcuno se gli arriva lo stipendio tutti i mesi fa il giocatore e qualcuno lì ha smesso e quando poi ti mancano comunque 7-8 giocatori perché è anche vero che abbiamo giocato per 2-3 mesi poi con mi ricordo esordito con tutti i giocatori un ragazzo un ragazzo di radrezza poverino era anche un buon giocatore però con tutti i giocatori che ci avevamo siamo stati costretti a buttarlo dentro quindi si può immaginare dove erano andati tutti gli altri è stato un anno disgraziato e francamente mi dispiace perché è anche una piazza dove almeno a me mi ha trattato molto bene poi è è una piazza importante una bella una bella città lasciando perdere poi le viste le visuali politiche cose però è una città che nel calcio italiano è una città è una città importante non è che l'hanno fatta no ma poi è una città che tiene le tradizioni insomma è un posto dove sono stato e veramente mi è dispiaciuto tant'è che io avevo detto avevo dato anche la disponibilità a rimanere lì poi tornata a Livorno no tornata a Livorno anche perché poi non c'era più nessuno non c'era più nessuno con chi parla senti Francesco Claudili ti chiede quale c'è trovato più forte che ha incontrato in carriera e quello più forte in questo campionato a questo avviso se si parla di serie se si parla di serie B penso in serie B secondo me l'ultimo che ha fatto veramente la differenza poi ha fatto una scelta di vita però secondo me poteva ora in questo momento di giocare nelle prime 6-7 d'Italia è stato Paolinho che è l'ultimo anno a Livorno aveva raggiunto una ugualità veramente veramente importante per un campo di serie B tant'è che aveva la possibilità di andare in serie A l'anno dopo però ha fatto una scelta di vita non so nemmeno però era un giocatore veramente forte per rimanere all'attuale che poi se andiamo indietro mi ricordo anche Zampagna Luca Realli Protti però quelli secondo me erano una B un po' diversa era quasi una serie A quindi le lascerei da parte di quest'anno ce ne ha diversi anche se tanti ce l'ha tanti ce l'ha al Cagliari perché secondo me Melchiorri è uno è uno poi ha avuto anche la fortuna di giocarci è veramente uno degli attaccanti più fastidiosi che ci possano essere perché abbina tutte le qualità che magari brutto da vedere però è forte fisicamente bravo tecnicamente aggressivo molla mai la parecchia forte fisicamente insomma è un giocatore però ce n'è ce n'è diversi qualcuno ce l'ha ce l'abbiamo anche noi secondo me qualitativamente magari i nostri non sono bomber da 20 gol però qualitativamente sono sono giocatori che ti possa mettere in difficoltà però Melchiorri è un giocatore che secondo me in questa categoria in questo momento fa la differenza beh penso che un'ultima domanda perché ce ne stiamo approfittando dove la presenza di Luca dovevo capire come stava a Terni eh fatti sì come io sto bene ma l'ho sempre detto c'è una città che comunque mi rispecchia abbastanza ho trovato tante similitudini con con la mia città di provenienza parlando del tessuto sociale poi chiaramente il mare mi manca quello mi può mancare però è una città lo proviamo no figurati quello mi basta andare un giorno a casa per vederlo non è quello però dal punto di vista sociale è una città dove io mi trovo bene sono cresciuto comunque una città operaia quindi so quali sono i valori insegnati so che la gente non aspetta altro che magari rispecchiarsi nella scuola di calcio che è una delle poche cose che magari in questo momento possono rimanere insomma quindi io io mi trovo mi trovo mi trovo molto bene anche Brando sta bene lui sta meglio di tutti lui no il bambino è felice ho trovato una struttura dove lo mando a scuola quindi la moglie è contenta io io sono sono a posto certo si può firmare anche per il prossimo anno volendo quello dipende dalla società io un anno un anno c'è un'opzione per ma è stata una trattativa un po' un po' anomala io devo essere sincero devo ringraziare il direttore perché probabilmente se fosse stato per qualcun altro qua non sarei non sarei arrivato il direttore mi ha dato fiducia perché comunque non era facile all'inizio anno io venivo anche da una squalifica avevo tre giornate non è mica detto che uno deve andare a prendere Mazzoni perché non è che però il direttore ha scommesso su di me io sono contento io diciamo che invece di chiedergli due anni mi è andato bene l'anno più l'opzione perché comunque anche io dovevo dovevo dimostrare qualcosa è la prima volta che non sono del Livorno quindi poteva essere uno penso sia anche giusto perché ti ripeto tutti ragionano così no no ma infatti è una delle cose che probabilmente il direttore ha apprezzato sai io mi sono trovato quest'anno per la prima volta ho fatto anche una sciocchezza inizio anno perché ho fatto una recessione di contratto senza senza avere avere la squadra sì mi sono allenato col tutto cuoio un mese cioè c'è stato il rischio che potessi firmare lì c'erano sì perché lì c'erano gli amici l'allenatore lo fa Lucarelli dietro il sportivo lo fa Protti Protti? Sì Sì quindi ti puoi immaginare che sazza mi avevano messo quindi insomma la tentazione c'era stavo eracca però no stavo messo malissimo perché poi alla fine si metteva una tira in porta però sono contento senti Mauro Meloni ti fa i complimenti Mauro è un tifoso storico della della terra quindi ti fa i complimenti per quello che appunto hai stai facendo con la maglia rosso-verde ultima cosa che giudizio dai di Alberto Brignone ti posso dire questo io quando sono andato via da Livorno il direttore che comunque conserva un buon rapporto io avevo detto guarda ma se riesci non è che ti conviene prendere i Brignoli senza togliere niente a quello che han preso però io ho grande stima ma poi se vi capita di parlare con Alberto insomma c'è anche un buon rapporto con lui perché un anno doveva venire a Livorno poi non è venuto è venuto a Terni comunque è sempre stato un ragazzo ci parlavo insomma mi sono confrontato è un portiere che mi piace molto e poi è uno di quelli che interpreta il ruolo in una maniera diversa dagli altri uno di quelli che esce sempre si prende i rischi mi piacerebbe vederlo una categoria sopra perché in Serie B credo non si debba neanche discutere le qualità di Alberto mi piacerebbe vedere un portiere come lui con quelle caratteristiche nella in massima serie e la Parase quest'anno secondo me mi dispiace mi dispiace dirlo ma secondo me quest'anno ha sbagliato un po' tutto no lui non lo deve prendere come un anno perso perché comunque è un anno dove tu te alleni con la serie A che è un altro mondo e già così migliori però dipende molto dallo staff di allenatore che hanno si però solo quando ti calciano un porta i giocatori di serie A cambia un po' gli allenamenti sono molto in mirare comunque sono a Genova sono preparati hanno un buon allenatore dei portieri però secondo me è proprio anche la velocità nell'allenamento che la trovi poi con le partite alle due compagni alla Sampdoria comunque ci sono giocatori importanti e secondo me lui lo deve prendere come un anno di crescita assolutamente l'anno prossimo deve andare a giocare perché oltretutto Alberto se non sbaglio è un 90 mi sembra un 90 comunque a 25 anni è giusto che ovunque ma deve giocare anche perché è un peccato secondo me vedere un portiere così non ho sfruttato bene possiamo ringraziare quindi il nostro ospite Luca Manzoni volevo dire solo che me ne stavo dimenticando Francesco De Angis scrive scusa ti leggo anche questo almeno poi chiudiamo se riesco ad aprirlo che stasera sto un po' in crisi però eccolo qua volevo dire che stavo per lanciare che partita ecco qua grande Manzoni credevo fosse venuto a svernare a Terni invece dimostrando di essere un grande professionista e un grande uomo ho avuto 30 anni di carriera quindi no ma 10-15 tutti ho avuto da sempre quando sto per la palla di petto su un tiro e rinvirare testa ho avuto dice Francesco De Angelis ho avuto da sempre un grande rispetto per i livornesi sin dagli anni della C2 e C1 quando come tifoseria c'era una cerrima amicizia poi sfociata in amicizia viva Dio ma grandissimo rispetto e stima verso la tifoseria Amaranto forse proprio per le similitudini tra i cittadini e le due città mare a parte ho sempre stimato i livornesi anche quando ci presero a sassare a Livorno grande mazzoni sono felice di potermi ricredere sul tuo conto per le prime due o tre giornate forza a fare grazie volevo dire è stata lanciata sulle ore 20 di questa sera sul sito della Ternana l'operazione praticamente create voi la maglia della Ternana ci sono quindi basta andare sul sito della Ternana cliccare sulla notizia e lì si apre una certa di form sulla quale potete esprimere le vostre preferenze sia per quanto riguarda il carattere dei numeri sia per il motto da stampare sulla maglia ce n'è uno f.p puntato che lascia a voi interpretare a Terni si capisce benissimo me l'hanno spiegato e poi fere e pesce e poi e poi sono e poi sono le maglie dunque sono cinque per quanto riguarda la prima maglia quindi dovreste scegliere una di queste cinque tra re per quanto riguarda la seconda e due per quanto concerne invece la terza maglia votate e poi a fine credo 27 di dicembre si chiuderà questo sondaggio i risultati saranno passati alla Macron che è lo sponsor tecnico e lo ricordo ha rinnovato il contratto fino al 2019 se non va aderrato infatti confermano dalla regia quindi ringrazio votate 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 poi le pagliano e scegliere ovviamente scherzo ma però sono bella Luca l'ha viste io non ve la faccio vedere perché prima tutto perché potete votare una sola volta una volta che l'hete vista avete votato non potete andare sullo stesso computer riflettete bene sullo stesso IP dicevo a te sono piaciute mi sembra sì sono sono belle c'è qualcuna che va un po' troppo oltre oltre il limite della però quelle che poi in teoria saranno quelle che sicuramente le persone voteranno sono belle senti per il motto anche tu sei per il dopo che mi hanno detto cosa vuol dire sono per quello f.p.p.p. va bene grazie davvero in bocca al lupo speriamo che possiate regalarci davvero tantissime altre soddisfazioni non solo a noi è sempre un piacere anche per noi perché mi fa piacere commentare le vittorie non le sconfitte a loro stessi quindi grazie a Luca Mazzoni la linea passa alla regia ad Alberto Francioli veniamo insieme ora abbiamo parlato più di un'ora con Mazzoni direi che è stata una parte di Mazzoni che andava diciamo non seguivo no diceva chiedeva lo chiedeva a me ma non mi ricordo un giocatore che è stato espulso domenica c'entra avanti del Genova non ho capito domenica no che viene la serie B secondo me è un grande centroavanti e che a Luca non piace e che a Luca non piace Pavoletti Pavoletti ah Pavoletti del Sassolo si mette mai nei capelli Luca io mi ricordo la di Samina che ha fatto lui con l'avere di Pavoletti ha detto è un giocatore tecnicamente scarso e io dissi si è un giocatore probabilmente tecnicamente scarso ma è un uomo d'ara di rigore si fa quando va a casa ci dofona con la capoccia ma dai ma questo fa golla la palla fa golla Luca devi fare il portiere deve parare e l'attaccante del palazzo che diceva Mazzoni prima la serie A è un'altra categoria assolutamente come dirano tutta un'altra roba se giochi in serie A c'è un motivo ma Pavoletti è un giocatore motesto e non ci giochi per caso ci sono molti attaccanti di B nettamente sui due da Pavoletti però Pavoletti è andato in serie A per aver fatto una ventina di golla in serie B probabilmente sì non è che ci è andato perché era amico di qualcuno ci è andato perché ha fatto tanti golli in B e poi è un ovario di rigore c'è sempre dove sta la palla butta dentro i gol l'ha fatta in grazia comunque l'attaccante quando fanno gol fanno comunque vanno di sicuro a gennaio a gennaio Pavoletti la Ternana non lo prende posso dare la notizia a gennaio la Ternana non prende Pavoletti è una soddisfazione diamo le notizie al contrario cioè diamo tutti i giocatori che la Ternana non prenderà adesso ho convinto che non farà nemmeno grandi cose la Ternana a gennaio ma soprattutto in attacco non credo proprio ma non credo neanche io non credo che neanche ne debba fare lavorare su questi ragazzi che ha o comunque un difensore centrale insomma servirà un terzino destro perché Janzi se ne va un terzino sinistro perché non c'è la Ternana se ne va se la Ternana accetta che Janzi se ne va secondo me Janzi va via ma io non ne sarei tanto sicuro sinceramente ad oggi Janzi non ha chiesto niente a nessuno infatti anche a me risulta che non ha chiesto niente a nessuno così come Sala non ha chiesto niente a nessuno no Sala non lo so poi arriverà un terzino sinistro perché non c'è l'alternativa Vitale ce lo porta io credo io credo e sono quasi certo che potranno esserci un paio di uscite se ci saranno per mandare a giocare qualcuno che chiederà anche di andare a giocare e la sostituzione saranno proprio il terzino destro e il terzino sinistro poi ci puoi mettere una punta in più se trovi una punta che se trovi una punta giusta per coprire Paoletti Paoletti no ma se non viene Paoletti non viene allora fino adesso abbiamo parlato con Luca è inutile caldare le braccia non mettete malinconia Paoletti fa gol quanti gol ha fatto quest'anno tre cinque inseriamo sembra già cinque quest'anno hanno fatto tre no credo che l'abbia fatto di più perché mi pare che una partita ne ha fatti già una partita ha fatto una doppietta quindi e quindi poi io ho una punta che a me è sempre piaciuta perché punti che la punta che sta sempre come punto di riferimento dentro l'area dribbling è una zampagna è uno alla zampagna no zampagna giocava meglio molto più elastico si però in area di rigore forse in area di rigore si faceva zampagna era più qualità molto più qualità ah beh scherzo c'è poi zampagna ma zampagna segnavene in acrobazia pareggiato il trapano doveva fare l'1-1-2 zampagna zampagna c'è un chiedere saluto domani mi posso togliere il saluto zampagna c'è anche ragione addio domani anzi non so se sarà vedendo mi manda subito un messaggio per me l'unica cosa che gli è comune è la struttura morfologica per me zampagna è nettamente superiore anche per me però zampagna è arrivata in serie tardi molto tardi certo perché aveva età oggi non c'era più perché non gioca ma aveva qualità tecniche fisiche ma anche di fantasia di quella pura follia dell'attaccante vero che raramente le trovi imprevedibili in alcuni casi il genio la rovesciata l'acrobazia lucarelli dai lucarelli e pavoletti si avvicinano secondo me zampagna come qualità ancora meglio di lucarelli no io mi chiede lucarelli lucarelli pavoletti beh diverso lucarelli più attaccante che parte da lontano più fuori fisicamente pavoletti è più centravanti d'area di rigore vediamo io ho visto partire anche da tre quarti campo si però lui di norma fuori aria appoggia la palla al primo tocco comunque non prendiamo nemmeno lucarelli perché allena allora vediamoci i riflessi filmati vediamoci i riflessi filmati ringrazio sempre Maurizio Bonifazzi vediamoci i riflessi filmati di questa partita che l'Atenana ha vinto per 4 a 0 finalmente non abbiamo sofferto fino alla fine verso il un quarto d'ora dalla fine insomma stavamo già tranquilli anche se i primi 10 15 minuti insomma se insomma fanno gol l'Atenana è ritornata male in campo dai 10-15 minuti la ripresa siamo stati in difficoltà però l'ha sbagliato sempre l'approccio la gara io lo dicevo prima anche a Luca secondo me non è prossima Ascoli ragazzi non è possibile cioè l'Ascoli doveva solo vincere con noi no? e dunque che pensi che vengono ti fanno le grezze? senti allora poi sentiamo Massimo e Luca o meglio la loro siccome tu sei il tecnico il primo commento lo facciamo fare a Luca Massimo e tu poi ci dai si dà le bacchettate dice tu non ci capisci niente bravo Luca che partita è stata 4-0 lì si commenta una delle migliori prestazioni stagionali della Ternana diversa per certi aspetti ma complessivamente analoga sul piano della qualità rispetto a quella di 20 giorni fa contro il Vicenza un 4-0 che non ammette repliche che come dicevi si commenta da solo poi è chiaro la partita perfetta esiste difficilmente ad altissimi livelli credo che perfino in Champions League di fronte a certe vittorie trionfali di squadre stellari poi se tu vai ad analizzare la partita puoi trovare qualche limite qualche difetto qualche lieve sfasatura no? e allora possiamo stare qui a dire che in entrambe le frazioni l'approccio non è stato cioè l'avvio di entrambe le frazioni non è stato entusiasmante diciamo i primi 10 minuti del primo tempo e i primi 15 abbondanti della ripresa peraltro rispetto a quelli della ripresa c'è da dire che il Como perdeva 2-0 e quindi doveva comunque esercitare un minimo di pressione offensiva indubbiamente se nei primi 10 minuti del primo tempo siamo stati così sotto ritmo volevo dire a centro campo e abbiamo rischiato solo su quella ripartenza che ricordavamo prima quando è Bagua poi in realtà dopo aver vinto un contrasto con Gonzalez si è ritrovato davanti al pallone o meglio il pallone li è rimasto dietro e lì se invece il controllo fosse riuscito all'attaccante italiano avremmo rischiato secondo me eravamo al terzo minuto perché poi se prendi con dopo 3 minuti cambia il quadro tattico e psicologico del match questo non è accaduto il Como non ha più fatto nulla di realmente pericoloso in avanti ha denotato solo una buona proprietà di palleggio in mezzo al campo ma del resto se i due centrocampisti si chiamano Bessa e Sbaffa è chiaro che hai una discreta eleganza nella qualità della manovra però è una squadra il Como che è mancato cromorosamente in avanti e soprattutto nella fase difensiva il secondo e il quarto gol non meritano commenti al di là dei meriti dei rossoverdi bravi e astuti e tempestivi il secondo e il quarto gol chiamano evidentemente in causa la retroguardia allargiana quindi dicevo così così i primi 10 minuti del primo tempo ma Luccio i primi 15 minuti abbondanti della ripresa per il resto solo Ternano in campo che ha vinto e convinto giocando bene giocando anche con un buon fraseggio a centro campo con uno sviluppo della manovra apprezzabile molto bene Vitale a sinistra che ha spinto moltissimo ottimo stavolta l'impatto sulla partita di Gondò che qui vediamo sfiorare la doppia dopo che aveva già segnato la terza rete bene Ceravolo che comunque ha disfrutato secondo me un ottimo primo tempo gli è mancato soltanto il gol sugli scudi evidentemente falletti e secondo me poi magari non possiamo anche parlare più nel dettaglio molto bene anche la lettura molto positiva molto efficace puntuale la lettura tattica del match da parte di mister Breda Massimo aggiungiamo qualcosa sì volevo dire intanto faccio una domanda ad agosto chi di voi poteva immaginare che avremmo giocato con una mediana fatta con Zampa Grossi e Falletti una partita scusa nessuno scusa do anche la risposta non è ancora in vantaggio c'è un'autocuola di Fazio do anche la risposta nessuno allora nei primi dieci minuti l'approccio alla partita per la prima volta tre giocatori si ritrovano a giocare insieme dopo due allenamenti perché la Ternana aveva giocato martedì quindi si è allenata giovedì e Grosso tornava a titolare a due mesi della partita col Bari ed era la sua terza partita titolare in campionato in tutto credo Grossi e Falletti era la terza presenza come mezzala ed era in assoluto la terza partita della Ternana col 4-3 una squadra che cambia modulo cambia interpreti perché vuole affrontare il Como sfruttando le sue armi migliori per mettere in difficoltà l'avversario credo che gli si possano concedere 10-15 minuti di assestamenti in campo detto questo mi pare che il Como non sia più esistito è vero ha incontrato la giornataccia il Como può darsi a 9 punti in classifica verissimo però io l'avevo visti 3 giorni prima giocare con il Crotone e posso garantire che il Crotone ha faticato un bel po' per fare gol non parlo poi della partita di Cagliari quella precedente dove il Como era in vantaggio al 92esimo e sull'1-0 ha colpito un palo clamoroso con Ganzo ecco quindi io credo che sia giusto una volta tanto dare meriti a chi se li merita e godersi una vittoria senza andare a cercare per forza di cose l'errore nell'errore o hai sbagliato anche il pensiero no io credo che la Ternana come dice Silvano ha un organico buono un organico omogeneo che consente all'allenatore ben spalmato di variare anche il modulo e ha un allenatore che potrà non essere simpatico sicuramente non è un capopopolo non è il murigno della situazione non si metterà mai a girare per girato verso la tribuna ad incitare i tifosi sarà introverso non lo so però sicuramente è uno che studia molto le partite le prepara con grande accortezza perché poi cambia sempre anche in funzione degli avversari senza snaturare la squadra e credo quindi che meriti un minimo di applauso per quello che sta facendo poi è evidente che anche lui ha sbagliato perché nessuno è infallibile perché se non sbagliasse mai allenerebbe probabilmente il Real Madrid no perché hanno preso uno che sbaglia spesso quindi il Real Madrid no probabilmente il Bayern Monaco se non sbagliava mai a posto di Guardiola evidentemente sbaglia anche lui allena in Serie B credo che sia un dignitosissimo allenatore che merita rispetto e merita di poter lavorare senza ogni settimana trovare anche perché vedi risultati mettere schiaffi tutte le settimane anche per così 21 punti in 13 partite 1,7 diceva prima Luca c'è una media cusinghiera da una media al di lauree di quelli che possono essere ripeto io non faccio non voglio i numeri poi danno sempre lungi da meno assolutamente perché poi quando siamo qui quando è arrivato Breda che ponevamo qualche dubbio su Breda la gente diceva ma loro sono amici di Toscano adesso non è che siamo amici di Breda contro Toscano assolutamente facciamo considerazioni Toscano è stato la Ternana e dobbiamo considerare quello che era la Ternana in quelle prime 5 partite di campionato in quelle prime 5 partite io credo che fosse venuto qui anche Guardiola avrebbe trovato più di un problema a mettere insieme la squadra e farle vincere le partite ah non sentire in costruzione senza preparazione da da Crotone voglio dire dignitosamente io cancello le prime 5 partite di campionato considero il campionato della Ternana nel momento in cui è arrivato Breda che si è chiarita la situazione si è chiarita definitivamente perché non dobbiamo mai dimenticare che in quelle 5 partite precedenti è cambiata la società 3 volte perché si è passata da Zadotti Massoni c'è stato un po' di confusione un direttore sportivo che doveva venire che non è venuto uno ce n'era poi è andato via è arrivato un altro che nessuno pensava potesse arrivare quindi tutto questo si riverbera sulla squadra e l'ha detto prima Mazzoni a Padova quando la società è scomparsa sono i processi quindi anche certi incertezze dentro la società sicuramente hanno influito all'inizio così come influisce adesso positivamente la chiarezza che c'è nella Ternana perché sapere che comanda uno quello è lo vedi tutti le settimane tre volte alla settimana poi magari una volta ti dà la pacca sulla spalla un'altra volta ti dà due schiaffoni magari uno anche immeritato però c'è cambia ti cambia un po' la vita quindi io credo partita buonissima della Ternana al di là dell'avversario non mi interessa perché poi se non vinci 4-0 col Como vinci 1-0 col Como che succede? o pareggi 0-0 col Como quindi quando vinci sicuramente hai fatto il tuo poi ne riparliamo per cui una buona partita con ripeto la consapevolezza di aver ritrovato e trovato finalmente un giocatore che aspettavamo grossi che sarà secondo me molto ma molto importante da qui per il proseguo del campionato e poi il resto lo vediamo insomma intanto è migliorata la classifica siamo sereni una settimana c'è da scoprire ancora Signorelli perché anche Signorelli è uno dei giocatori importanti se no veramente ci raccontiamo le frottole ha giocato a Milano ma chi è che non pensava che il campionato della Ternana 4-3-3 il centrocampo della Ternana con Signorelli coppole grossi questo doveva essere o Busellato insomma non hanno giocato mai insieme quindi una partita ha vinto 4-0 c'è poco da commentare sotto il profilo cioè gli errori ce ne sono sono stati pochissimi si andiamo a vedere che dopo tre minuti Vacqua poteva fare un gol se non scivolava andiamo a vedere tutto perché analizzare la partita è importante importantissimo l'allenatore secondo me lo deve fare sempre però voglio dire la Ternana ha dimostrato al di là dei gol che probabilmente ci hanno regalato loro perché erano ben piantati in terra perché anche sul gol dei falletti io credo che uno slalom del genere al di là della gran forma del ragazzo tutto quello che ti pare ma non si manda in porta si fa il fallo al limite dell'aria ma questo è lo dice la logica poi c'erano anche i difensori del Belgio sul gol di Maradona con la panna perché seessimo fatto il fallo lui di forza è andato via di forza è scattato tre volte non mi sembra lì che era di forza è scattato tre volte il giocatore si è spostato il difensore eccolo l'ha lasciato andare benissimo però ha fatto comunque un gran gol e soprattutto la grandissima forma che ha in questo momento va sfruttata perché lui ha delle caratteristiche che nessuno ha riesce a saltare l'uomo soprattutto il primo uomo dunque se sul secondo tocco appoggia la palla o continua ad andare verso la porta va benissimo però voglio dire se vai ad analizzare il gol il gol più bello è stato quello di Kondo proprio come azione di gioco per come si è sviluppata come hanno liberato la fascia tutto di prima Falletti che ha messo la palla con il giro giusto il rimbalzo giusto l'attacco alla palla il tiro voglio dire tutto perfetto dopo le altre due erano due disattenzioni effettivamente è vero perché quel gol di Avenatti di Avenatti di Palumbo a Brede è piaciuto grandissimo l'ultimo gol perché ha detto ci mancava a noi un po' ci manca un po' di furbizia quello è vero infatti la battuta sua è stata non a caso l'hanno fatto due napoletani no Vitale Vitale la furbata Vitale Palumbo però voglio dire no io credo che la Ternana abbia cioè ripeto una partita vinto 4 a 0 abbia fatto una gran partita anche se questo è stato il momento di recuperare alcuni ragazzi che in questo momento non è che stavano al top compreso Venatti però il fatto che ha fatto col autostima tutta una serie di cose adesso però noi dobbiamo andare a giocare un'altra partita importante e secondo me dobbiamo ritornare subito con i piedi per terra perché è fondamentale l'approccio alla gara l'approccio alla gara 4 a 1 all'89 a Novara in favore della squadra di Baroni decima vittoria in 12 partite per il Novara dopo la sconfitta di Trapani se non avesse quel bottino di punti garantito dallo stadio di Trapani sarebbe tutti gli anni a rischio certo Novara 4 gol e 2 pali ha colpito tra l'altro scusa abbiamo interrotto no no ma io dicevo che l'approccio alla gara secondo me la Ternana ce l'ha sempre molto timido molto lento molto compassato secondo me io li vorrei vedere molto più cattivi determinati ingressi in campo già con la determinazione giusta quello che dicevamo prima con Luca perché Ascoli è stato un caso non è stato un caso vuol dire ma forse queste queste doti bisogna averle nel DNA perché è busellato voglio dire che è busellato che quelle 12 ce l'ha nel proprio di anni vuol dire pronti via per lui è busellato dall'inizio fino alla fine infatti busellato entra in contrasto sia il primo secondo che il 95 c'è la popola che però ha giocato a scartamento ridotto però voglio dire secondo me è una questione di mentalità che arriva come dicevamo anche prima con i risultati con i risultati con l'autostima con tutta una serie di questione che insomma poi vanno a fare una gara importante come quella di Cesena dove puoi vincere perdere noi ce la possiamo giocare con tutti non c'è una squadra secondo me che ce la può incartare e dunque visto che ce la dobbiamo giocare ce la possiamo giocare io la giocherei in quella maniera con un approccio diverso alla gara perché fino adesso quello che abbiamo sbagliato secondo me è proprio l'approccio alla gara dunque il resto io credo la Terrana sia una buona squadra lo ripeto dall'inizio in qualche partita vedi Latina ce l'ha avuto vedi Pescara vedi Vercelli e lì è andata a fase altente soprattutto fuori casa le tre vittorie in trasferta sono state anche all'insegna del temperamento perché a Pescara tutti i guardi dovevamo andati per sconfitti no? mi sembra perché sei passato dal momento della partita oppure a Latina per evitare la sconfitta col Perugio mi sembra la partita del riscatto la partita del riscatto dunque hai riscattato la prestazione precedente adesso quello che dice Silvano è giusto lo acquisisci con la consapevolezza della tua forza cioè prima ci hai messo il carattere perché dovevi riscattare una partitaccia precedente adesso lo fai perché dici beh sai che puoi vincere e non è un fatto isolato casuale e quindi provi anche delle giocate che in altri tempi cioè Gondo ha fatto un gol bello con una giocata che 15 giorni fa non avrebbe nemmeno provato l'avrebbe stoppata probabilmente passata a qualcuno lì vicino perché non ti assumi quella responsabilità fino a qualche tempo fa tirava solo Ceravolo questa è la storia della Ternana se andiamo a vedere le partite la partita anche di Ascoli con 2 sbagliate ancora un metro alla porta forse oppure col Perugia insomma però ci sono anche dei numeri allora io lo penso come vuoi penso che l'organico sia boh l'ho detto in tempi non sospetti lo diciamo dall'inizio devo dire almeno questo diciamo un po' tutti che la Ternana potrebbe o avrebbe potuto ma io dico che si possa ancora secondo me si può ancora usare il condizionale presente potrebbe ancora ambire alla parte sinistra della classifica dopodiché se sei nella parte sinistra della classifica i playoff presumibilmente intanto non retrocedi acquisti sicurezza non giochi diciamo con la tensione che ti attanaglia ma con un pizzico di serenità in più che agevola le cose e quindi puoi chissà perfino puntare a qualcosa di più importante al di là di questo però e sono anche convinto ma di questo sono certo non convinto che questo organico abbia potenzialità ancora non dico inesplorate ma non compiutamente esplicate si parlava di signorelli lo stesso Grossi che finora ha giocato poco giocatori frenati soprattutto da problemi fisici io devo dire che Grossi da Crotone visto Grossi a Crotone cui mi aveva fatto una brutta impressione perché sembrava che correse con il freno a mano tirato visto Grossi a distanza di due settimane è un altro giocatore e lui stesso ha detto a fine gara che non è ancora il top quindi adesso aspettiamo signorelli quindi in mezzo al campo abbiamo rinforzi importanti ma io direi che abbiamo alternative valide in tutti i ruoli ci manca solo un'alternativa verificata in categoria a Vitale perché lo porto sarà anche un giovane interessante ma è un 96 finora ha collezionato solo due panchine diciamo che è un'incognita al di là dell'alternativa a Vitale parlo di terzino sinistro di laterale pancino a basso in questa squadra di alternative ce ne sono sia per giocare 4-3-3 sia per giocare 4-2-3-1 se vuoi l'alternativa ad Avenatti non c'è provata provata con quelle caratteristiche c'è il Dugan c'è ma è chiaro che ha altre caratteristiche altre caratteristiche più uno attaccante a se quindi eventualmente anche lì potresti però è chiaro è chiaro è tutto perfettibile però c'è un problema la Ternana che in tutte le partite in trasferta Ivi comprese le tre vinte come abbiamo detto prima hai vinto 2-1 passando in vantaggio subendo la temporale rimonta e poi andando a chiudere il match in tutte le nove trasferte finora disputate ha subito almeno un gol non ha mai chiuso con la porta inviolata in nessuna delle nove trasferte finora disputate questo dato numerico che dopo 18 partite comincia a dovere un significato no? però ne hai fatta sempre uno certo però e le dieci sconfitte sono i due numeri che un po' non dico che mi preoccupano però come dire quello che ti conforta frenano il mio moderato cioè rendono il mio ottimismo moderato mentre invece potrebbe essere alla luce delle potenzialità dell'organico più accentuato tale ottimismo però le devi dividere per fasce le prime partite le seconde le ultime dunque siamo a 15 partite 5-5-5 siamo a 18 tu hai preso 3 a Crotone perché a me non li erano no 3 con il Livorno 3 con l'Avellino 3 a Trapani che comunque la prima giornata eravamo 12 gol in 4 partite hai preso una squadra ha scelto in campo a Trapani la prima giornata senza ritiro nelle gambe perché come gol sono fatti c'è un altro dato interessante tu hai segnato 22 gol e le hai segnate con 11 giocatori hai mandato in gol 11 giocatori soltanto il Crotone ne ha mandato in gol 2 di più mi pare 13 è seconda come l'unico di gol è andato a sì emblematico hai segnato hai segnato gli stessi gol un gol in meno del Bari che è terzo in classifica è il nono attacco il problema è che è la sedicesima difesa il problema è lì però anche quello è un dato c'ha ragione va scansionato dobbiamo prenderlo esaminarlo lo devi scomporre farsi di campionato capito perché nella gestione breta i tre gol le hai presi in casa con l'Avellino partita sbagliata che meritavi di perdere le hai presi a Crotone poi le hai presi a Crotone in nove in nove quindi certo se permetti insomma allora poi sentiamo due battute da Silvano Luca Traversi dice una splendida Ternana travolge il Como tutte le ferre oltre la sufficienza menzione speciale per Cesar Falletti gol numero 1000 lo ricordiamo il millesimo gol in serie B della Ternana e porta la firma di Falletti Avenatti finalmente sbloccato e Cedricondo in rete dopo tanti quasi gol Palumbo e due Zanon muro in difesa grossi valore aggiunto della squadra questo è il commento appunto di Luca Traversi tutte chiavi di lettura che in qualche modo abbiamo sviluppato quindi condivisivo dicevo c'è Walter Pallini il mio amico che dice c'è una voce insistente di mercato beh fare da calcio è normale ma vorrebbe uno scambio Avenatti Antenucci cosa c'è di vero è la solita bufa bufala io credo che sia la solita bufala niente meno di niente ma io credo Cavinatti andare a giocare in chittera non sarebbe male ma proprio per tipologia anche di gioco però non credo che possa avvenire adesso cioè voglio dire ma no anche per lui ma anche perché il ritorno di Antenucci credo magari io sono un grande stimatore Antenucci come tutti d'altronde però non credo che possa avvenire è una verifica fatta in estate sulla possibilità di riportare Antenucci alla Ternana verifica fatta dalla Ternana anche per così per capire per capire come stavano le cose proponibile anche perché Cellino l'ha pagato e quindi Cellino sappiamo anche quello che insomma no riguarda i soldi guadagna quello che guadagna quindi la Ternana non se lo può permettere punto fine dei giochi allora il gol di Gondò di cui parlava chi era Luca Massimo magari l'abbiamo violato credo quindi ce lo possiamo anche vedere però questa è solo la parte l'azione era bella l'inghia di Mazzoni colpo di testa di Grossi il Gondò la scarica all'indietro Palumbo la tocca per Falletti Falletti assist volante per il Gondò e Palumbo di prima in acrobazia la dà a Falletti Falletti quando cioè un mese fa due mesi fa l'avrebbe data di prima ma neanche stavolta se fossimo stati 0 a 0 queste sono le cose che fai perché ti regala la convinzione anche il risultato in questo momento Falletti sei infiducia rischia qualsiasi cosa e spesso gli riesce Gondò poteva fare anche due golle è stato fatto un bel colpo di testa la scuffetta l'ha messa nel calcio d'angolo poi ha avuto un'altra azione simile a questa il suo tiro in diagonale terminato sullo fondo una mezza giamattata volevo dire un'altra cosa su Gondò perché ho sentito che gli si fosse un attimino un po' più di fiducia stavolta ha giocato da centravanti qualcuno dice no stavolta ha giocato ha fatto un gol in contropiede ha giocato da centravanti la prima punta ma la del nana in quella fase di parte un conto e giocare da prima punta dal minuto 0 dal minuto 1 e la partita è un conto con la prima palla che arriva alta il difensore arriva col gomito che lo piazza dietro qui è il conto giocare con una squadra che vince 2 a 0 che va in contropiede e c'è le praterie davanti insomma è un'altra storia e allora no dicevo insomma è un giovane un pizzico di di sostegno anche vuole dire di sostegno e verascoli ha sbagliato quello che c'era da sbagliare però insomma è giovanissimo fa parte della ternana è un giocatore giovane sulla quale la Fiorentina per esempio puntava molto 96 e la Fiorentina dei giovani insomma l'anno scorso in Olanda il 97 giovane nazionale in Inghilterra qualcuno in Italia in Italia in Italia non accade mai questo è vero un pizzico di tolleranza assolutamente sì con i giovani ci devi lavorare molto di più questo è chiaro anche per un momento di crescita importante per i ragazzi ci devi lavorare molto di più si sente prima ostile questo sicuramente i giovani si esaltano su questo palumbo dopo il gol di domenica io credo che in altre circostanze probabilmente non credo ma lui è spregiudicato sì sì ce l'ha ce l'ha io l'ho seguito anche in primavera dunque ce l'ha ce l'ha proprio nel suo DNA insomma di provare anche cose difficili beh anche l'allenatore comunque della B Italia Piscetta parlando ha citato non è che ha citato altri giocatori ha parlato di palumbo come i giocatori di cui sentiremo parlare palumbo è arrivato a Terni che fisicamente non stava benissimo è stato un po' ricostruito rimesso in sesto perché insomma fisicamente ancora ha qualche carenza e quindi è un giocatore che deve lavorare dal punto di vista fisico ma non tutti i giorni ma ha delle qualità indubbie e una che ce l'hanno in pochi ce l'hanno quelli che ci nascono con questa cosa fare il calciatore ce l'ha qui nel senso che c'ha la facilità la spregiudicatezza la sfrontatezza del calciatore e quindi del calciatore vero e quindi per questo a 16 a 18 anni due anni fa già poteva affacciarsi in prima squadra quindi secondo me è un giocatore sul quale se lavori ancora con pazienza e con costanza e lui ci mette la testa può fare può vivere di calcio ma anche perché può fare l'organizzatore di gioco centrale ma anche la mezzala quindi è anche piuttosto polietrico ha un bel piede un bel sinistro ha quel pizzico di spregiudicatezza la parola giusta l'ha detto anche lui sfrontatezza sfrontatezza sì ma credo che i ragazzi adesso siccome sono tutte partite IVA io credo che il lavoro oltre a farlo la società lo debbano fare da soli anzi lo fanno da soli lo fanno con il proprio preparatore atletico con il proprio tattico con il proprio uomo di fiducia o comunque quello che fa crescere il ragazzo sotto tutti gli aspetti perché non stiamo parlando più di direttantismo puro stiamo parlando di professionisti e i professionisti adesso agiscono così giustamente dico io perché quando sei ho detto partita IVA ma insomma non è proprio così ma chiaramente investi su te stesso e quando investi su te stesso questo è quello che deve accadere perché Cristiano Ronaldo che è uno dei più grandi giocatori al mondo insieme a Messi non è che insomma si allena con Real Madrid e basta si allena con il suo preparatore atletico con il suo fisioterapista cioè il fatto di stare bene fisicamente diventa fondamentale anche per gli allenamenti che fai per come ti comporti per tutta una serie di cose ma soltanto il modo di mangiare no? l'alimentazione poi è il pezzo fondamentale da 15 anni fa 10 anni fa adesso c'è una valenza incredibile straordinaria vedi che ogni noi seguiamo un po' i ritiri ogni preparatore ha la sua metodologia anche a livello di dieta tanto che scalzano pure il medico a volte dovrebbero non lo chiedere al medico perché impongono loro ma le metodologie sono sempre più evolute adesso per esempio anche nella Ternana credo sia in voga l'utilizzo ad esempio del ghiaccio dopo partite particolarmente tirate nell'immediato post partita lo faccio io dopo la palestra si faceva già ma poi gli allenamenti personalizzati se non personalizzati con la squadra suddivisa in piccoli gruppi omogenei al loro interno per caratteristiche morfologiche dei componenti perché i brevilini fanno un certo tipo di lavoro i normotipi un altro quelli più strutturati un altro ancora l'analisi individuale della persona è fondamentale per la crescita per lo sviluppo per poi andare anche nei dettagli tattici ma insomma tecnici eccetera dunque si lavora da soli nella palestra della Ternana c'è la bacheca e sulla bacheca ci sono per ogni giocatore con la foto del giocatore c'è il lavoro che deve fare personalizzato giorno per giorno in palestra quindi ognuno ce l'ha diverso da un altro perché giustamente ognuno è diverso da un altro siamo tutti uguali un paio di mesi fa Gonzales è uno che ha giocato la Coppa Libertadores ha vinto tre campionati in Uruguay in Italia era in A tra Verona e Cagliari ha detto dice io se parliamo di qualità del lavoro settimanale non vedo grosse differenze tra quello che facevo in A e quello che faccio a termine B quindi dal punto di vista quindi da questo punto di vista possiamo dire la Terlana è una società organizzata direi proprio sì e ha uno staff allenatore preparatore medici all'altezza no? fisioterapisti all'altezza di quelle che sono le necessità poi dopo devi assemblare il tutto poi dopo però deve funzionare tutto quello che c'è dentro la testa che conta ancora di più è fondamentale quella è fondamentale allora Andrea Davanti leggiamo anche questo messaggio e poi diamo diciamo la giusta importanza a quelli che a coloro che hanno realizzato il gol domenica sempre grazie a Maurizio Bonifazi ciao Ivano dice Andrea Davanti a te buonasera a te ai tuoi ospiti e ai collaboratori sia visibili che dietro le quinte che ringrazio sempre perché è anche grazie a loro che possiamo seguire il notte gol ed è vero perché se non ci fossero loro gli angeli custodi io li definisco di notte gol in qualche modo e in qualche maniera siamo arrivati a tre punti da quei 25 che se bissati dovrebbero garantirci la salvezza anche se come ti ho già scritto nei giorni scorsi speriamo di poter alzare presto e bene la famosa articella di Zanottiana Memoria per portarla a qualcosa in più della salvezza si poteva fare sicuramente di più un po' più di attenzione cinismo e cattiveria agonistica ma la realtà è questa tutto sommato più o meno ci ritroviamo in quelle acque in cui abbiamo navigato in questi anni con Toscano Tesser e adesso Breda segno che il livello tecnico tattico è quello che rispecchia il nostro andamento da ritorno in B anche se la media a punti di Breda se mantenuta potrebbe aprire scenari interessanti qualcuno dice che siamo da playoff bocca sua santa dico io magari per il momento la realtà è questa e 25 punti sembrano alla nostra portata la sparo grossa se giriamo a 31 allora chi parla di playoff potrebbe averci rivisto lungo chi vivrà vedrà fin da ora buon Natale e felice anno nuovo a te e a tutti i tuoi collaboratori esterni interni visibili o meno e sempre forza a fare a prescindere da chi guida il sottolizio rosso-verde e dalla categoria in cui siamo buone feste cordialmente Andrea Tavanti veramente se dovessimo girare a 31 potremmo ancora ambire al secondo posto lo dico senza essere ironico io non credo che gireremo allora mi auguro di girare a 26 a 31 lo considero improbabile ma se dovessimo girare a 31 potremmo davvero rincorrere il secondo posto perché voglio dire magari aggiusti qualcosa sul mercato non hai la falsa partenza del giorno d'andato per i motivi che tutti conosciamo puoi pensare di farne qualcuno in più potenzialmente la Ternana ce l'ha le caratteristiche per giocarsela con tutti però voglio dire però ripeto ricordiamoci che abbiamo perso 10 partite solo l'Ascola ha perso uno partito di noi che abbiamo preso un bito collo in 9 trasferte su 9 che abbiamo spesso no spesso sistematicamente ottima la media punti di Breda 1,7 però 7 vittorie alle quali fanno da contrattare 6 sconfitte abbiamo perso 4 partite in caso quindi insomma ripeto è chiaro che la media punti di Breda è una cosa quello che la Ternana ha fatto la Ternana quello che era la Ternana nel primo mese di campionato era un'altra roba quello che non è una Ternana che non è la Ternana non è riuscita a fare nei primi 5 partite è chiaro che Zavorra in qualche modo la classifica attuale condiziona i numeri globali tutti noi sappiamo che i numeri di Breda sono migliori ovviamente è evidente in sé e gliene rendiamo atto questo è fuori di dubbio allora comunque io dico prego Massimo battere il Lanciano e fare due pareggi in trasferta si stemerebbe tutte le cose perché finalmente 5 punti sarebbero anche fai 5 punti nella media nell'inglese è fondamentale e gireresti a 27 e fai il tuo 5 punti fai il tuo stai nell'ombra tranquillo poi quello che verrà verrà poi vince l'ultimo 5 partire finisce la storia maggiore serenità magari la società è anche più no perché conoscendo un po' le situazioni conoscendo insomma quelle del calcio giri a 31 come dici tu già i playoff cominciano a starci stretti nell'immaginario e dobbiamo andare direttamente e poi dopo ti aspettano tutti e dopo invece no una cosa più pagata tranquilla ci facciamo vedere troppo vorrei festeggiare il finale con 3 punti sull'aggiano no punticino a Cesena punticino a Cesena dove l'abbiamo presi anche spesso punticino a Brescia tre con la Giano punticino a Brescia 22 più 5 27 magari con 2 0 a 0 in trasferta una goduria per Luca sarebbe in trasferta e 3 a 0 in casa allora domani mattina 1 a 0 2 a 0 perché siamo tranquilli volevo ricordare che domani mattina alle 10 e 30 presso la sala della direzione generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni verrà consegnata la sonda pediatrica cardiologica è una sonda acquistata attraverso la solidarietà i contributi dei ternani con la fondazione Aiutiamolo a Vivere e la Terni per Terni anch'io che hanno fatto praticamente da tramite la sonda pediatrica cardiologica è estremamente importante per il nostro ospedale questo dono viene effettuato in memoria di Davide Raggi un ragazzo che ricordiamo sempre con tanto con tanto affetto volevo anche dirvi ringraziare innanzitutto Alessandro H per l'albero di Natale che ci fa un po' d'atmosfera ci avviciniamo al Natale quindi ci fa un po' ci riempie l'atmosfera un po' più natalizia grazie davvero ad Alessandro volevo io pensavo avessi portato Luca lo riporti però certo poi intanto non è che a casa mia non è che lo riporto è importante questo non è un problema non l'Italia tanta acqua prima di Natale la fa il 23 la sera non la trasmissione mi alla fare il giorno della VG per la VG Vigile a Natale c'era a casa anche quando stai giochiamo di sera la facciamo di sera ma la facciamo lunedino dopo cesena io vado già sul Natale perché ti consente questa cosa di avere l'albero di Natale proprio per i tre giorni di Natale di festa Vigilia lo puoi portare però basta te ne ricordi di riportarlo è vero per aiutargli l'acqua attenzione guarda se vuoi io non lo so tanto perché abbiamo il chroma key non è possibile però c'è anche la luce si accende tutte colorate è veramente bello è carino ringrazio Cristina tra le altre cose che l'ha realizzata allora dicevo nel rol di Telecaieleo c'è un'altra iniziativa che sta andando praticamente in onda che è iniziata da sabato scorso credo l'asta delle maglie da parte dell'associazione Amici di Teto Teto è Stefano Galletti il ragazzo deceduto appunto nel terribile incidente stradale nei pressi di Rocca San Zenone queste sono le maglie per fare la vostra offerta potete scrivere direttamente all'associazione amici di Teto chiocciolagmail.com quindi potete fare la vostra offerta indicandola naturalmente la maglia quanto offrite e il vostro numero di telefono puntualmente la vostra offerta poi verrà riportata sulla pagina facebook Asta Maglia Amici di Teto e poi faremo una serata qui a Telecaieleo subito dopo Natale ora dobbiamo decidere magari la serata la data in cui effettuate questa asta con le ultime offerte praticamente che si potranno fare in diretta qui a Telecaieleo l'associazione Amici di Teto tutti i soldi che raccoglierà con questa asta ma anche con altre iniziative che ha messo in piedi effettuerà della beneficenza delle opere di solidarietà appunto nel nostro nel nostro comprensorio proprio nel ricordo di Teto quindi potete scrivere all'associazione Amici di Teto chiocciolagmail.com e fare la vostra offerta allora siamo parliamo di una di una perché mi poi magari nella fase finale torneremo a parlare di Ternana mi ha incuriosito un comunicato stampa che è stato fatto dal del Campitello però non so se dal direttore generale no prima ce n'è stato anche un altro del presidente Castellani e poi c'è stata una tua puntualizzazione sul in seguito alla partita che avete giocato in casa con con l'Ortana con l'Ortana ma io innanzitutto complimenti perché è seconda in classifica la squadra io vorrei eseguare il campo da questo punto di vista di polemiche perché non abbiamo bisogno di polemiche noi abbiamo fatto una scelta a Campitello quando io faccio il direttore generale una scelta di far giocare i giovani abbiamo scelto innanzitutto prima di scegliere i giovani che avevamo già nostri quando dico giovani 96-97 e qualche 98 la scelta dell'allenatore la scelta dello staff perché per noi è fondamentale e la scelta dei vecchi cosiddetti vecchi che non sono vecchi ma che comunque sappiano far crescere bene i giovani perché noi abbiamo fatto questa scelta non ci interessa la classifica ci interessa soltanto far crescere i nostri giovani questo non è che ci dispiace se vinciamo il campionato io quando allenavo giocavo solo per vincere dunque questo deve essere chiaro questo però sai benissimo che quando fai giocare molti giovani rischi anche però voglio dire noi facciamo un campionato di promozione noi facciamo la serie B la serie A e abbiamo fatto una scelta i nostri giovani credo che si stanno maturando tantissimo stanno crescendo tantissimo e questo ci conforta la classifica ci aiuta perché chiaramente l'allenatore può lavorare più tranquillamente tutta la settimana dunque c'era nata una polemica in quella partita ma neanche per il risultato perché io credo che il risultato chi ha visto la partita sa benissimo che è bugiardo nel senso che noi abbiamo fatto la partita per tutti i 90 minuti o 94 quelli che sono stati però abbiamo incontrato una squadra matura secondo me anche molto bravi ragazzi in gammio una squadra allenata da Alessandro Cavalli da Alessandro sì e devo dire una squadra esperta una squadra che comunque ha ribattuto benissimo perché noi eravamo in vantaggio già al 17esimo 2 a 0 a fine del primo tempo eravamo già 2 a 2 insomma una squadra che non è che si è scomposta più di tanto quando abbiamo fatto la cosa che mi ha dato fastidio non è il comportamento loro tutt'altro come qualcuno ha detto no è stato solo il comportamento dell'arbitro e non parlo dei rigori dati o non dati perché quello è tutto opinabile dunque però ci sono degli atteggiamenti durante la partita che non mi sono piaciuti mi riferisco in modo particolare a delle trattenute dove è il regolamento che lo dice non lo dice Silvano Ricci sul rigore dice poi il rigore io posso pensare il rigore lui pensa che non è il rigore finisce la storia stiamo sempre lì certo possiamo discutere all'infinito però quando uno prende un giocatore per la maglietta va ammonito perché lo dice il regolamento non lo dico io però Giuliano non lo pensa così vedete una vicenza sì però voglio dire e parliamo di B neanche neanche quell'arbitro lì la pensa così però voglio dire io credo che comunque a noi ci è servito tantissimo anche aver perso ci è servito come un momento di crescita per questi ragazzi perché poi noi abbiamo una punta che è capocannoniere che si è fatta male il primo tempo abbiamo messo dentro un altro ragazzo un altro 97 che adesso è stato convocato anche da presentativa io credo che stiamo facendo veramente bene quello che noi dovremmo ancora più diciamo così accentuare è questo questo momento di lavoro individuale dei ragazzi del settore giovanile perché noi abbiamo un livello molto alto del settore giovanile ma parliamo dell'Umbria però non parliamo di regioni vastissime l'Umbria sappiamo tutti è poca cosa nel panorama nazionale dunque da questo punto di vista noi dobbiamo migliorare lavorando in modo sistematico e quello che dicevamo prima che fanno questo lavoro che fanno i ragazzi di serie A serie B i professionisti noi dovremmo cominciare a farlo perché ci sono tantissimi nostri giocatori che ci vengono chiesti da società professionistica di prima fascia quando dico prima fascia dico Inter, Mila, Torino voglio dire sono cose importanti e noi non ci possiamo trovare impreparati e dunque questi ragazzi secondo me devono cominciare a lavorare anche in modo individuale e soprattutto rendersi conto di quello che stanno facendo perché è vero che ci vogliamo tutti vivanti divertire e per chi lo fanno perché per loro chiaramente noi parliamo che vengono a vedere le partite nostre vengono a vedere le partite del 99 del 2001 del 2002 del 2003 e parliamo sempre di queste fasce qua e però voglio dire nel panorama ripeto il panorama nazionale l'Umbria è vero che il campinello in Umbria è forse il migliore settore giovanile che c'è però è comunque poca cosa rispetto a quello che è il Lazio quello che è la Lombardia quello che è alcune regioni che hanno campionati diversi importanti dunque momenti di crescita di di spessore diverso noi dovremmo fare questo e se riusciamo a fare questo secondo me noi possiamo dire la nostra con questi ragazzi ma ci riuscirete? vi state attrezzando? ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando non è facile perché lavorare sui giovani non è facile non c'è non c'è un risultato immediato però ci stiamo già lo stiamo già facendo insomma di fatto dunque siamo adesso voi per esempio però una palestra non ce l'avete? sì sì noi ce l'abbiamo noi abbiamo il miglior preparatore che c'è in Umbria non lo dico lo dico veramente abbiamo un allenatore il nome non si fa noi abbiamo un grande preparatore atletico prima squadra juniors e settore giovanile abbiamo gli allenatori del settore giovanile tra più è stato un ex preparatore della serrana immagino con Francesco Giorgini chi era? non era con Francesco Giorgini Luca Massimo? no no non lo so abbiamo degli allenatori del settore giovanile secondo me molto bravi stanno facendo crescere bene questi ragazzi la scuola calcio è secondo me a grandissimo livello adesso noi dobbiamo migliorare sotto questi aspetti dunque l'aspetto su cui dobbiamo migliorare è quello individuale dunque il lavoro finalizzato a crescere individuale dei ragazzi c'è una rivoluzione copernicana insomma a casa non è tanto rivoluzionaria la cosa io nel 93 allenavo il campidello e nel 93 io per la prima volta feci cominciai a lavorare in palestra perché allora c'era il nostro ex presidente del campidello Ciccioni che aveva una palestra l'Atena e io cominciai a lavorare in palestra con i ragazzi che allenavo la prima squadra chiaramente vissero subito il campionato di promozione e allora c'era un campionato di promozione a girone unico era molto diversa la cosa rispetto ad adesso poi abbiamo fatto due campioni di eccellenza con un altro grandissimo preparatore atletico secondo me poi è andato la Ternana insomma e adesso ho una palestra e cominciai non poi noi ma noi no no cominciai a lavorare già lì attualmente lavora anche con Esposito per il calciacinque cominciai a lavorare per il beach soccer beach soccer sì e cominciamo a lavorare a livello individuale già allora dunque stiamo parlando di più di vent'anni fa figuriamoci se lo facciamo adesso e vabbè insomma a Campinello si con tutta sta roba ci scappano anche le polemiche no le polemiche io non le faccio mai io faccio le costruzioni qualcuno la fate però se noi vanno non tirava fuori no perché il presidente il presidente dell'Ortana ha risposto in tono polemico rispetto a quello che io ho scritto io l'Ortana non l'ho proprio menzionata per niente assolutamente non mi interessa loro hanno fatto la loro partita giustamente c'è avuto la quota di paglia si dice in questi casi loro hanno fatto la loro partita come è giusto che sia noi abbiamo fatto la nostra poi hanno vinto loro ma un risentimento verso l'albero era indiscutibile e ripeto non sui rigori che non ha dato su cui non entro minimamente nella discussione ma nei falli che secondo me è proprio da regolamento però vabbè comunque la squadra di cavalli gioca bene ma io devo dire noi giochiamo molto meglio dunque no io Alessandro sono una persona che stimo come allenatore come ragazzo però voglio dire noi abbiamo giocato nettamente meglio quella partita loro hanno fatto la loro partita da squadra esperta aspettandoci dove ci dovevano aspettare quello che avrei fatto io al posto suo e poi ripartendo con spazi ampi perché noi concediamo tanto troppo secondo me però la squadra quando vuole giocare è così gioca noi giochiamo molto troppi tanti passaggi arriviamo molto spesso dentro è una bella partita ho visto una sintesi dentro l'area avversaria bella partita bella partita lo vince il campionato campitello orvietana o atletico orte secondo me lo vince l'area di corte perché la squadra più forte sulla carta è la più forte in assoluto ma c'è anche un allenatore che è completamente fuori categoria ragazzi Alessandro Pagli è bravissimo sul piano tattico è incredibile io credo che abbia delle competenze straordinarie credo sia un valore aggiunto a questi livelli poi io non conosco bene tutti gli allenatori di promozione anche l'orvietana anche l'orvietana buona squadra è un ottimo allenatore anche il campitello sta facendo molto bene anche i giovani noi abbiamo fatto un'altra scelta ripeto non è che non vogliamo incercare dipende poi dalle strategie sociali vabbè portavano le spalle la prima squadra noi abbiamo portato 14 ragazzi giovani in prima squadra anzi questa inversione di tendenza rispetto agli altri anni no a tanti anni fa è da applaudire assolutamente se non il settore giovanile che lo fai a fare la prima squadra deve essere espressione del nostro settore giovanile a questi livelli livello direttantistico per me anche la serie C dovrebbero la Lega Pro dovrebbe funzionare così i settori giovanili si fanno per far giocare i ragazzi in prima squadra come puoi pensare che giocano in serie A se non li fai giocare nemmeno nei campionati di direttanti sono d'accordo è una follia noi abbiamo fatto questa scelta io mi assumo tutte le responsabilità perché sono stato il primo a proporla insomma a portarla avanti anche la scelta all'allenatore è stata la mia dunque se qualcosa va male è colpa mia bene ci vediamo qui un responsabile sei tu a provare se c'è un giocatore che io l'hanno scorso ho visto giocare ti fai se non me ne dimentico scusa un attimo volevo fare complimenti sia a Riccardo Zampagna che a Roberto Borrello che ieri hanno vinto facciamoli bravi entrambi poi sono due grandi amici poi domenica giochiamo da Zampagnone è vero ad Assisi Assisi è quinto? domenica mi sembra anche a vedere la partita una domenica così comunque lui ha cambiato il volto di quella squadra mi hanno detto io non l'ho visti mai giocare ha fatto sei vittorie in sette partite ha fatto cinque vittorie e poi una sconfitta e poi un'altra vittoria sei vittorie in sette partite e tante e Roberto ha vinto ha tirato un po' di postia Roberto ha trovato una situazione veramente io a Bastia ci ho giocato conosciuti gli amici mi dicono che comunque sta lavorando molto bene Roberto anche Roberto è allenatore validissimo sia lui che Riccardo quindi complimenti per queste due vittorie per come state guidando le vostre squadre Luca io ho le maglie come? ho le maglie di Borrello e Zampagna quando giocavano quella di Borrello non ce l'ho però insomma allora non c'erano i nomi dietro quindi sai che è di Borrello perché era quella di Borrello non ce l'ho numero 10 di Borrello e io Roberto ci ho giocato contro più che le maglie c'è qualche segno che gli ho fatto io hai tu a lui io a lui io ero di terzinaccio lui era tutto tecnicamente veramente bravo era bravo veramente dai ma volevo dire che secondo me sarebbe al di là del settore giovanile eccetera sarebbe anche importante avere uno scouting attento almeno a livello fino alla serie D poi dopo le categorie inferiori è un altro discorso io parlo per una realtà di B ci sono giocatori in D veramente bravi io a maggio ho visto i playoff della serie D la squadra che è andata in finale e che poi ha vinto ma ha rinunciato alla promozione perché non aveva intenzione di investire perché aveva lo stadio non ha norma è il Sestri Levante c'era un giocatore che secondo me era straordinario si chiama Firenze infatti adesso sta in panchina col Crotone che è primo in B ha giocato poco il Crotone è molto attento ecco ma voglio dire questo Firenze che è una mezza punta geniale ha comunque credo se non erro quattro presenze in B nel Crotone capolista e anche ieri sera era in panchina mi è capitato di vedere in questo fine settimana una partita intera ho visto un attaccante del Pomigliano Mancino una punta centrale ha giocato mezz'ora ha segnato due gol e ha colpito due traverse giocatore straordinario credo però che non sia proprio giovanissimo credo che abbia 22 o 23 anni ma un giocatore Torricelli c'era 22 anni andava io ma poi in genere in serie di aspetti i giocatori che magari hanno un certo potenziale fisico questo è un bagaglio tecnico eccellente un sinistro omicidiale in 30 minuti due gol e due traverse Prisco del Pomigliano adesso io ho chiaro che ho visto una partita direttore agri però mi chiedo quanti giocatori bravi ci sono tantissimo io penso che le società di serie B arrivano anche a quei livelli infatti il prodotto ha preso Firenze dipende che politica fai però certo allora io ho visto il Parma ho salutato miglietta ha fatto un certo effetto ha giocato ieri? si si ho giocato 23 a 0 perché prima stava 3 a 0 mi hanno segnato loro bell'aria ma avevano smesso insomma 3 a 0 dopo un tempo stavano quindi come sta giocando? però insomma la cosa buffa a vedere no? Lucarelli miglietta lì fa una serie di a bell'aria insomma dai allora dicevo rendiamo omaggio grazie a Maurizio Bonifazi a coloro che hanno realizzato il gol contro il contro il Como e allora con Alberto Francioli andiamo a vedere questi lavori grafici appunto di Maurizio Bonifazi eccolo qua il migliore in campo anche per voi è il secondo è il migliore in campo Falletti sicuramente sì migliore in campo stessa a Falletti Superman se fai gol fai l'assist ma nel minuto ha piantato a determini e giocati sulla forza le azioni grandissima forma della partita come vuoi non essere ma ne poteva fare anche un altro subito dopo l'impatto il gol grandissima forma ma in questo momento bisogna vedere quando non sta al 100% quello che riesce a dare a questa squadra speriamo che non scenda sotto il 95 fino alla fine e vabbè questo è il lavoro quindi di Maurizio Bonifazi per Cesar Falletti Antonio Palumbo qui con il dito in bocca una sorta di ciuccio praticamente e fra un po' lo dovrà addorare c'è i pochi mesi di tranquillità poi come cambia la vita Iron Man Antonio Palumbo in gol secondo gol in tre settimane esatto qui c'è l'omaggio ad Avenatti che viene ai parrucchieri questo è l'omaggio ai parrucchieri per le chiome dei giocatori artistiche il delendero dice Maurizio Bonifazi il gol di Filippo Avenatti e l'abbraccio dei compagni di squadra questo sta un po' a testimoniare che effettivamente tutti sono un po' partecipi al momento non brillantissimo ma insomma speriamo che sia sulla strada della migliore condizione del miglior convincimento di essere Avenatti perché forse è quello che manca poi andiamo avanti e ci sarà Falletti ha fatto il gol oltre al migliore in campo ha realizzato anche il primo gol e qui c'è un gondo il panteron di Maurizio Bonifazi non penso che sia credo che sia non penso che possa essere un termine credo che l'abbia cognato all'impronta sì è grande Maurizio la lingua una lingua adattata da Maurizio Bonifazi un abbraccione a Maurizio Bonifazi è un ringraziamento veramente per tutti i lavori che ci ha presentato che ci ha presentato questa sera allora imbocchiamo la fase finale della della trasmissione si va a Cesena vogliamo assontrare Luca che ci ci rincuora un pochino scusa no io speravo che la Trenana chiedesse di giocare mercoledì cioè dopo domani perché oggi il Cesena aveva oggi aveva dieci indisponibili e probabilmente di questi dieci sette otto non avrebbero recuperato però la richiesta di anticipo non è partita quindi giocheremo sabato non è elegantissimo da parte mia partire nell'analisi del Cesena dai presunti o potenziali o probabili indisponibili no perché se vai avanti così potresti augurare un'epidemia in venerdì sera scusate è arrivato un messaggio di Maurizio Bonifazi che dice era il soprannome di Marcello Salaieta secondo Maurizio quindi abbiamo riso ma no no grande Maurizio ciao Maurizio grazie davvero anche bellissima queste elaborazioni grafiche ma dicevo comunque il Cesena è sicuramente fra le tre o quattro squadre più attrezzate del campionato sulla carta è vero che nelle ultime sei partite ha raggranellato soltanto cinque punti ma un momento di difficoltà in un campionato ci può stare soprattutto in un momento in cui l'infermeria è affollata è anche vero però che il Cesena in casa vanta un problema di marcia importante e mi tengo basso sette vittorie un pareggio e una sola sconfitta quindi insomma ha vinto sette partite su nove al di là dei diecimila abbonati e quant'altro oggi non si sono allenati e non ci saranno con la Ternana due titolari fissi o potenzialitari il difensore centrale capelli e l'attaccante Ciano e questi non ci saranno e poi e tre punte esterne che non sarebbero titolari ma che comunque sono giocatori a parte Dalmonte che è un giovane ma in prota un altro ex padua di quel padua stellare e Diuric che insomma sono giocatori per questa categoria importante il centroavanti che ha giocato anche nel trapano il centroavanti croato ha giocato anche contro noi quando giocavamo col Cesena e siamo a quota 5 poi sono in forte dubbio Mazzotta che Drago si è portato da Crotone e potrebbe rientrare c'è anche da dire che si gioca il posto con Renzetti quindi sono obbligo con titolare la parte alla pari chiedo scusa Succi che comincia ad avere 32 anni va a avere 33 ma insomma in questa categoria ha fatto golli importanti e il giovane attaccante Scuola Siena Rossetti che l'anno scorso era all'Atalanta si è fatto male sabato a Vercelli inoltre si sono allenati a parte ma dovrebbero recuperare Sensi e l'ex Rosso Verdi Ragusa comunque diciamo che il Cesena in questo momento è in difficoltà ha perso male a Vercelli giocando male paga Dazio evidentemente a questo problema dell'infermeria ma è chiaro che di questi 8-10 giocatori che ho citato alcuni recupereranno e comunque il Cesena ha giocatori in ogni caso importantissimi in avanti che stanno bene fisicamente mi viene in mente Molina a destra ex Modena e Atalanta Garritano che sta giocando largo a sinistra mi viene in mente Sensi il regista anche lui ha qualche piccolo acciaccoma che si è imposto come uno dei centrocampisti centrali migliori del campionato io non lo conoscevo francamente prima di questa stagione onestamente così come non conoscevo la mezzala destra che si è ma proprio non ne conoscevo l'esistenza fino a tre mesi fa con E lo conosciamo insomma c'ha già sebbene relativamente giovane qualche campionato di B alle spalle in difesa hanno giocatori esperti c'è l'ex Rosso Verdi Lucchini che però gioca a corrente alternata diciamo non è un titolare fisso però ci sono Caldara e Magnusson al centro abbiamo detto che a sinistra in teoria si potrebbero alternare Mazzotti e Renzetti il primo in questo momento ha qualche problema fisico dall'altra parte c'è Perico ecco a mio avviso il portiere non è all'altezza dell'organico Gomis è un portiere però alterna grandi parate è un portiere molto discontinuo però io credo che sia un portiere discontinuo a Bercelli ci ha messo del suo devo dire esatto l'ultima notazione lasciamo stare Lucchini del club abbiamo detto lasciamo stare un secondo portiere esperto come Agliardi però quando tu hai un difensore di fascia destra come Decolle un centrocampista centrale come Caccianelli una mezzala come Tabanelli un mediano sul quale hanno già messo gli occhi molti tempi come Valsania sono due anni che non gioca Tabanelli non gioca perché è andato al Cali con Lizz eccetera infatti è sordito sabato a Bercelli giocando anche bene però è un buon giocatore Valsania è già nel mirino di alcuni club di A lo stesso Moncini è un attaccante bravo e quindi come si vede il Cesena che ha mezzi economici limitati va avanti grazie ai 10.000 abbonati grazie al paracadute derivante dalla retrocessione dalla A e grazie alla straordinaria capacità del proprio DS Foschi comunque in organico ha grandi nomi giocatori importanti di categoria ma anche tanti giovani interessanti è una signora squadra è chiaro che la partita è estremamente complicata partita complicata Massimo? sì se non ci fanno arrabbiare possiamo fare anche il pari però non ci devono far arrabbiare 0-0 però no complicata complicatissima dai tre partite finali di girone d'andata che sono micidiali perché anche il Lanciano che affronteremo in casa non è una squadra morta è una squadra che se la gioca tutte le domeniche quindi a mezz'ora della fine vinceva il 2-0 a Tavellino capito? a Tavellino insomma poi è rimasto in dieci ha pagato molto l'espulsione l'espulsione un po' inferiore da numerica l'ha pagata molto stupida devo dire quindi l'ha pagata e ha preso tre golle quindi sono tre partite molto ma molto complicate giusto pensare ad una alla volta noi facciamo mettiamo insieme il pacchetto invece diciamo queste tre partite serviranno a noi a farci capire quanto è forte la Ternana e dove può potrebbe arrivare la Ternana saranno importanti anche per la società che capirà cosa potrà fare o dovrà fare non solo a gennaio ma anche in proiezione futura perché poi anche se al di là del mercato di gennaio che in ogni caso credo sarà limitato limitato credo che gennaio è il mese dei rinnovi contrattuali è il mese in cui puoi esercitare le opzioni in cui fai le scelte e le fai perché non le puoi fare solo aspettando l'esito del campionato ti devi un pochino portare avanti con il lavoro quindi il progetto lo comincia a costruire a gennaio a gennaio a febbraio quindi come giri la metà di campionato diventa importante perché se giri è presente ma è già futuro è già futuro perché se giri ad una quota bassa e sai che ti devi solo salvare fai certi ragionamenti anche a livello societario se invece vedi che puoi startene tranquillo quantomeno cominci a ragionare anche sul futuro e programmi il futuro allora per chiudere non so se Alberto è riuscito ad aggiornare la classifica comunque al limite anche se non ci fosse riuscito non fa niente vediamoci la classifica brevemente un commento su quella che è stata praticamente la diciottesima giornata quindi tre giornate alla termine del campionato di serie B ricordo che il Danovara ha vinto contro il Trapani per 4 a 1 al 75esimo la partita era sull'1 a 1 infatti al 74esimo aveva realizzato un calcio di rigore evacuo subito dopo ha pareggiato un rizzato per la formazione del Trapani ma poi senza i punti di penalizzazione sarebbe terza in classifica questa è già aggiornata è aggiornata quindi facciamo un commento a questa a questa classifica al di là di quelli che sono praticamente i risultati e poi andiamo a chiudere beh come il Lanciano sono indubbiamente in difficoltà possono risalire soprattutto il Lanciano ma cominciano se per la Ternana vale il discorso vediamo come finisce il girone d'andata per intuire come può iniziare quello di ritorno per Lanciano e Como c'è un dato inerudibile categorico evitare di staccarsi indietro perché poi rimontare sarebbe complicato soprattutto il Como e il Como Lascoli ha perso l'undicesima gara stagionale è vero che ci può stare di perdere a Salerno dopo che aveva perso a Bari e aveva battuto in maniera diciamo in una gara molto particolare alla Ternana però insomma l'Ascoli in trasferta perde e perde sempre regolarmente e perde sempre prendendo per il key goal questo 2-0 è migliorativo rispetto ai precedenti 4-3-0 consecutivi incassati dalla formazione marchigiana il Modena io ieri sera l'ho visto a Crotone non mi ha fatto una cattiva impressione ha pagato Dazze l'espulsione dopo la mezz'ora per un gesto incomprensibile una doppia smanacciata tra virgolette sul viso di Ricci che poi non si è capita perché in quel momento la partita non era neanche troppo nervosa secondo me era anche un po' esagerato e poi c'è la zona play out con Vicenza Latina e Salernitana io francamente questo è un terzetto di squadra che non riesco a decodificare del resto si potrà dire fatico a capire Vicenza sta un po' in crisi in Vicenza è indubbiamente un punto in tre partite fatica in Latina sembrava aver tratto giovamento dall'avvento in panchina di Somma però continua ad alternare buoni risultati in casa e sconfitta in trasferta ha segnato un bellissimo gol del Dumitru alla Spezia quello del momentaneo pareggio quello inutile però è il gol del momentaneo pareggio quello inutile la Salernitana è chiaro che deve fare deve costruire la sua classifica soprattutto tra le muramiche vorrei far notare che ieri a Salerno c'erano 9300 sabato pensa quando retrocedono in quante si arrabbiano eh no però vorrei far notare che la Salernitana affrontava la partita con 17 punti ed c'erano 9300 spettatori comunque l'Avellino si è tirato su ha sfruttato al meglio il doppio turno casalingo 6 punti in casa è vero che sabato ha mezzolata la fine perdeva 2-0 con Lanciano però ha ribaltato il risultato anche in virtù dell'uomo in più la Provercelli esattamente come la Trenana di Breda la Provercelli di Foscarini non pareggia mai o vince o perde e comunque questa volta ha battuto il Cesano stavolta ha battuto il Cesano e anche meritatamente Foscarini l'ha definita la migliore partita della sua gestione il Livorno ha preso un buon punto o quanto meno un punto accettabile contro il Cagliari lo Spezia ecco dopo aveva esordito con una sconfitta in casa di Carlo adesso però è andato a pareggiare con una buona dose di buona sorte a Pescara Pescara tre traverse del Pescara due traverse un palo però ha battuto bene in Latina il Perugia che sembrava lanciatissimo evidentemente ha pagato anche a livello psicologico la debacle interna con il Novara 1-4 ieri ha perso nella partita dell'ora di pranzo della domenica a Bari una partita bruttissima avete pranzato tutti e non avete visto la partita io ho visto il secondo tempo il secondo tempo è stato bruttino per me secondo me una partita bruttina e non è che il Bari abbia fatto cose sfavillanti no no assolutamente anche se è vero che non aveva Rosina e Valiani e comunque se fosse finita in parità non è che il Perugia avrebbe allora secondo me Cosmi sbaglia sì Cosmi chiedo scusa Bisoli sbaglia nel prendersela con l'arbitro perché il gol annullato al Perugia a mio avviso era da annullare no a tuo avviso da regolamento ecco per evidente carica sul portiere se il pallone è tra le mani del portiere se il portiere ci mette sopra le mani è finita lì l'azione appunto e quindi sbaglia Bisoli nel protestare con l'arbitro anche con toni piuttosto diciamo vivaci parlo delle dichiarazioni di fine cara però secondo me se il Perugia solitamente non è così però se il Perugia avesse pareggiato secondo me non avrebbe rubato nulla l'ultima cosa l'entella che a 25 ha interrotto una serie positiva di 12 partite consecutive ma ci sta di perdere a Pescara il Trapani che a 24 perde spesso in trasferta perde largamente ha una fase difensiva come dire sicuramente non troppo brillante io credo che potrebbe il Trapani non me le vogliano eventuali tifosi del Trapani o di Cosmi all'ascolto potrebbe essere risucchiata nella parte destra della classifica e poi da Cesare in su ci sono solo squadre che puntano in alto e c'è il Brescia sempre più sorprendente che è andato a vincere a Vicenza dopo questa concisa illustrazione di Luca almeno rimane altro che chiude la missione e dàcene a casa volevo sottolineare solo due aspetti prego quanto sia importante vincere in questo campionato l'entella ha fatto una serie positiva di 12 partite 25 punti l'aternale c'è una serie positiva di due partite e c'è una 22 la differenza la differenza come la fa col Perugia nel risultato del derby quindi la serie positiva è utile per darti autostima ma non ti fa classifica se non ci metti le vittorie perché la classifica la fanno le vittorie i pareggi aiutano completano il quadro perché si vince si perde di solito si vince il campionato si vanno i playoff o si retrocede o si vanno i play out per due punti tre punti un punto che ti li danni i pareggi altra considerazione che volevo fare mi pare che quelle che stanno in fondo siano destinate a restarci ovvero a giocarsela sempre lì in quel in quell'ambiente ci vedo dentro in Tella Trapani in questo Bailam probabilmente con lo Spezia che risale via di Certo e Livorno non ci credo volevo aggiungere un altro non ci credi che risale? sì no non ci credo che risale perché perché avrebbero dovuto fare altre scelte anche in panchina con tutto il rispetto ma secondo me ritorna molto presto il vecchio allenatore chi? Panucci Panucci insomma non è non credo cambierà molto a confermare quanto siano quanto siano insidiosi difficili le partite che aspettano la Ternana giochi contro il Cesena che deve riscattare la più brutta prestazione dell'anno fatta a Vercelli giochi in casa con il Lanciano che presumibilmente non so con chi andrà a giocare insomma si gioca le ultime chance si gioca chance importanti per la salvezza perché poi se giri a 14 15 16 punti è difficile che ti salvi e vai a giocare a Brescia contro la squadra più in forma del campionato la vera rivelazione del campionato è il Brescia che non si doveva nemmeno iscrivere che hanno messo insieme all'ultimo momento prendendo un allenatore bravo perché Buscaglia è bravo però non lo sapevamo perché aveva allenato soltanto a Trapani quindi pensi sta a Trapani con quel direttore sportivo in quell'ambiente fa bene fa bene solo lì fa bene solo lì non è vero manco per niente perché è andata a Brescia e con una squadra molto giovane tra l'altro ma fatta con giovani importanti 30 punti in classifica quindi è una squadra che viaggia sulle ali dell'entusiasmo quindi sono tre partite estremamente difficili chi pensa che il peggio è passato per la Ternana sbaglia perché poi in Serie B ogni partita è una battaglia guarda il Como quando è il Como che stava vincendo a Cagliara il 92 ecco quindi occhio occhio alla penna perché il campionato è tutto ancora da decifrare tranne insomma le prime tre o quattro che credo allora torniamo in studio qual è il parere di Silvano le tue considerazioni su questa classifica su questo campionato di Serie B in generale quello che ha detto il campionato cioè ha detto il campo non è accesso a niente di di nuovo dopo 18 partite dopo 18 partite perché dopo 4 partite puoi bluffare puoi dire tutto ma insomma dopo tutte queste partite puoi partire sparato puoi partire sì no ma poi stranamente quello che nessuno di noi pensava ci sono le sorprese che ci sono sempre in Serie B però che il Brescia fosse stata la squadra da battere o comunque la squadra rivelazione di questo campionato io non ce l'avevo scommesso neanche un centesimo ma nemmeno a Brescia ma proprio per quello che era accaduto durante durante la fase finale del campionato dell'anno scorso per l'inizio di quest'anno non è sempre così sul Crotone il Crotone non pensavo comunque che al fine del giorno dell'andata fosse primo però ancora non si sa però voglio dire sta comunque lì davanti però il Crotone c'è avuto sempre questo intuito maggiore rispetto ad altri di lavorare sui giovani di prendere giovani importanti da primavera importanti prendere ragazzi con un certo spirito con una certa mentalità e dunque stanno facendo veramente bene gli va dato atto che sanno scegliere sanno scegliere anche l'allenatore anche l'allenatore chiaramente ma anche i ragazzi soprattutto i ragazzi io non so se l'ha scelto l'allenatore o comunque no ursino tutto ursino però ha scelto bene anche l'allenatore perché fai un investimento su un allenatore che ha allenato un anno soltanto questo è un allenatore è un allenatore estremamente meticoloso io ho visto il pre partita dell'ultimo hanno giocato proprio a Como mi pare mi pare una partita di Como beh facevano vedere che Iuric quando sono entrati arrivati a Como le squadre entrano in campo in abiti bonghesi in tuta se ne è andato ha preso le misure a passi ha misurato a passi la larghezza del campo poi è andato dai suoi esterni a parlare questo lo fanno tutti perché io devo dire che siccome allo stadio ci arrivo presto al Terni non mi è capitato mai di vederli questi professionisti che fanno questa roba i giovani devono sapere le dimensioni del campo le distanze eccetera però insomma vederlo fare in serie B se permetti mi ha fatto piacere si fa capire quello che è sicuramente non lascia niente al calcio anche perché uno che vuole arrivare insomma mi sembra perché siccome una squadra che gioca con gli sei molto larghi quindi utilizza molto il campo è evidente che se trovi un campo stretto poi lavorano giocano molto nell'uno contro uno dunque è fondamentale è un aspetto fondamentale il campo la grandezza del campo la larghezza comunque con la ternana del compianto con la luna e di Giorgini che si dicevano continuamente il campo sarebbe trovato io non ho mai visto una squadra già che 4-3 è un modulo metti un palo che batte sempre lì molto spettacolare ma parimenti rischioso no? se sbagli un movimento ti trovi l'avversario in casa cioè in area di rigore ma io un 3-4-3 così esasperato con i due centrale di centrodestra Yao non lo conoscevo bravissimo Scuola Inter se non erro il centrale di centrosinistra lo conoscevo perché ha giocato a Gubbio Ferrari ha giocato male solo con la ternana tutte le altre partite ha giocato molto bene così costantemente alti e sempre capaci di accompagnare l'azione palla al piede e di essere spesso nella metà campo avversaria molto propositivi ma anche con piedi dignitosissimi e capaci anche di duettare con la mezzala che si allarga e poi di creare la catena in sovrapposizione con l'esterno io un 3-4-3 così spregiudicato e devo dire a oggi così funzionale non l'avevo mai visto che funziona perché? perché hanno trovato la punta giusta perché nel calcio come ribadiscono anche quelli veri di giornalisti quelli più importanti di noi lo schema io non l'ho visto ma ha fatto un gran gol lo dettano gli attaccanti indovinate che ha sbagliato lo dettano gli attaccanti Popesco e quindi gli attaccanti se tu ci fai caso chi c'ha di attaccati guarda la classifica e poi mi dici chi ha gli attaccanti ma lo stesso Brescia c'ha Caraccio ha già segnato 4 golle quello dell'Udinese Geico vabbè giocatore esperto bravo 33 anni ha già segnato 8 gol quando hai le punte foto Crotone trova Budimir Cagliari c'era tutti gli attaccanti quelli che erano in circolazione hanno preso tutti meno Avenatti di che parliamo? però se prendeva Avenatti non avrebbe preso Merchiorri no no ah l'altro Cerri 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 del No Merchiorri l'aveva preso comunque Merchiorri l'aveva già preso l'alternativa era tra Avenatti e Cerri e Avenatti a Cagliari mi hanno detto che se prendevano Avenatti no no Merchiorri l'avevano già preso allora Cerri e Avenatti Senti chiudiamo un attimino con le impressioni che ne dite del sorteggio di Champions League? Ottimo ottimo? per gli altri per gli altri no no le partite le devi fare tutte certo è meglio incontrarle in finale però insomma se la Juve becca il Bayern ce ne faremo la ragione allora la Juve il Bayern ha beccato secondo me dopo il Barcellona la squadra peggiore che potesse incontrare perché la Juve se la gioca con tutti e non lo dico da io non sono gioventino quindi non lo dico da tifoso quindi quindi Bayern la squadra che doveva evitare un po' di calcio lo seguo anche quello non vedo questo giovanotto qui che ha visto lui dalla Paganese insomma vedo che Paganese un miliano taranto due a due un miliano ah perché c'era il Taranto vabbè insomma la roba lì a proposito c'è Yeboah del Taranto che è fortissimo Yeboah? Yeboah ex Turris fortissimo ah scusa mettiti d'accordo con Magolo insieme giocano Magolo Yeboah e mentre la Roma prende il Real Madrid peggiore delle ultime stagioni con Benitez in grandissima difficoltà con Cristiano Ronaldo che dichiara mi manca tanto Ancellotti spero di prima di chiudere la carriera di tornare a giocare con lui credo che se mi sfrutta questa occasione sia un bel ambientino però i valori i valori delle squadre ci sono tutti io ho visto il Real Madrid l'altra sera con il Villareale vi posso garantire che è inguardabile rispetto al potenziale che ha però voglio dire se decidono di giocare non ce n'è per nessuno neanche per il Barcellona nemmeno per l'allenatore nel senso che fanno da soli mi sembra di aver capito che fanno da soli dopo la partita con il Barcellona poi l'hanno proprio messo da parte però certo se la Roma gioca come con il Napoli che per fare un punto non passa la metà la Roma la vedo in un momento poco favorevole anche sotto l'aspetto della forma fisica insomma non lo so però giocano a febbraio ecco appunto adesso e poi c'hanno tempo e Garzia se ritrova Gervinio ritrova anche il gioco quindi beh Gervinio per lui è importante comunque per come conosco un po' queste squadre dico se la Roma gioca bene con De Rossi con Iemna Incolani sarà Gervinio e Dzeko sarà Gervinio e Dzeko un problema glielo creano assolutamente un problema Luca allora i miei commenti sono neutri non necessariamente lucidi perché io in Serie A ho una vaga allora io detesto tre squadre Bari Taranto e Ascoli le detesto tifo per la Ternana in maniera viscerale e ho una vaga simpatia per l'Atalanta così mi è simpatia e vince mi fa piacere quindi sono fuori dal giro cioè le big non mi interessano detto questo non è questione di tifo no no io sono interista no detto questo no questo preambolo per dire io ero convinto che la Roma quest'anno anche grazie alla falsa partenza della Juventus legata ad una serie di concomitanze gli infortuni che dire Marchisi alcune scelte particolari di Allegri pensavo che la Roma fosse la principale candidata allo scudetto anche più delle Napoli e della Fiorentina e più dell'Inter anche se l'Inter uno dice non ha gli impegni nelle coppe europee ne può trarre vantaggio i fatti mi stanno dando torto la Roma nelle ultime 12 partite correggetemi se sbaglio perché mi potrei sbagliare tra campionato e coppe nelle ultime 12 ne ha vinta una è un po' poco e beh strutturalmente al di là delle difficoltà contingenti del Real Madrid anziché regge ancora che sia strutturalmente al di là del momento di difficoltà del Real Madrid che è sotto gli occhi di tutti la Roma pur avendo un buon organico avendo attaccanti importanti è inferiore al Real Madrid ma non mi sembra disamorevole questo per definizione c'è anche da dire che la Roma sta pagando a caro prezzo carissimo prezzo l'infortunio di di Gergiervegno e la presenza in squadra di un paio di difensori che non sono da Roma non sono da prima fascia in Serie A secondo me assolutamente senza fare nomi per quanto riguarda la Juventus concordo con quello che ha detto Massimo è il peggiore cliente possibile per il Bayern il più ostico il più scomodo ma è anche vero che il Bayern in questo momento è fra le prime tre squadre d'Europa quindi voglio dire però a febbraio dipende da come arrivi a febbraio dipende da come arrivi a febbraio perché se la Juventus è quella da adesso io credo che la Juventus può mettere in difficoltà qualsiasi squadra la coppa di campioni è una cosa strana perché è andata in ritorno devi stare in forma in quel periodo se non stai al top dimangono i giocatori e poi i 3-5-1-1 della Juventus con Dibala e di Tromantro che ci possono andare in tilt qualunque corazzata di Bala di Bala ho visto che di sera sentite una cosa della Fiorentina che mi dite? che gioca molto bene ma va a tirare poco si specchia un po' troppo si perché è inutile che tu fai un possesso palla anche elegante quello della Fiorentina non è un 3-4-2-1 è un 3-6-1 perché se da una parte c'è Borca Valero d'altra parte c'è Ilicic in effetti rimane davanti Calinic gioca benissimo ma è chiaro che non tira contro la Juventus ha dominato per dire ha fatto la partita ma non ha tirato mai in bordo ho fatto questa domanda appunto ho visto la partita c'è la mente ma Calinic si è spento a forza di andare su a scattare per prendere la palla gli stessi a Milano contro l'Inter hanno vinto una partita eccezionale nel senso che l'Inter è una squadra completamente diversa da Juventus non ci mette lo stesso mordente la stessa cattiveria la stessa determinazione che ci mette la Juventus questo è chiaro l'Inter si specchia anche l'Inter si specchia molto la Fiorentina si specchia molto anche la Fiorentina ma comunque c'aveva qualcosa in più quel giorno ha fatto scorrere la palla velocemente e l'Inter è andata sempre in crisi 4 a 1 1 a 4 1 a 4 con la Juventus la palla scorreva lenta con la Juventus cioè dopo che Di Bala quando Di Bala ha deciso di giocare ha messo in crisi la Fiorentina al di là del 1 a 1 che è avvenuto subito su un gol probabilmente anche quello ha aiutato molto è assolutamente sì però voglio dire è anche abbastanza fortunoso perché secondo me non c'ha non l'ha fatto non l'ha tirato per fare gol però voglio dire succede però la Juventus anche sul secondo gol ragazzi ha fatto un treno su quella palla ragazzi cioè convinti determinati il calcio migliore lo gioca il Napoli beh anche la Fiorentina ma secondo me dipende che calcio vuoi un calcio che sia un calcio bello che si pratico offensivo reddivizio allora ci sono due fasi nel calcio uno di possesso palla uno di non possesso quando non è in possesso ce l'hanno gli altri bisogna doverli far giocare se tu decidi di farli giocare sulla sua metà campo va bene li fai giocare sulla sua metà campo come dici tu gli porti via la palla e gli fai gol perché la Fiorentina molto spesso cioè non c'ha mai verticalizzazioni improvvise cioè voglio dire punti di riferimento uno infatti ho detto il Napoli gioca il miglior calcio no no perché adesso tutti quanti dico la Fiorentina no 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 anche il Napoli c'è solo un punto di riferimento davanti eh beh no 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 perché c'ha delle varianti che sono straordinarie perché gli inserimenti di Amzic in signa che taglia dall'esterno verso il centro si pare poco facciamo tanta roba non prende gol non prende gol schierati dietro tira in porta è la squadra che tira mai è la squadra che tira più in porta in grifferia dai perché è vinto con l'Inter no no ma che ha vinto se per cui la vita che colmina vinto dovresti è vero parte colmina c'è 90 in parecchio Luca invece chi è la squadra allora che gioca meglio e poi chiudiamo dai a Fiorentina a Fiorentina anche se io stimo moltissimo Sarri che è un grande allenatore molto preparato tra l'altro il fatto che abbia cambiato abbandonando il suo storico 4-3-1-2 per un 4-3-3 che è più funzionale all'organico del Napoli depone a suo favore a livelli più bassi sono contento del buon campionato dell'Empoli che non mi è particolarmente simpatico ho grande stima di Gianpaolo sono contento che sia un buon campionato quando gioca il Sassuolo è una delle squadre che gioca anche il Sassuolo si maniano con la difesa senti ma Sosa di Sosa invece che dite Paolo? eh insomma Juventino gioca a Fiorentina è bravo è bravo è legante noi parlano bene molto bene ragazzo è legante molto bravo dai allora chi è il favorito secondo voi per la partita del Novara visto che Baroni è sul loro del precipizio io glielo ho chiesto quando è venuto a termine lui mi ha detto adesso ha vinto 10 partite vedo su 12 penso che si è vicino al Sassuolo non riesco a capire Alberto dalla regia mi sta ah il Lester ha vinto ha battuto il Chelsea ah il Lester ha vinto quanto il Chelsea 2-1 e chi ha detto Mourinho a Raniere che sono stata in Italia ce ne sono detto tutti bravi vabbè chiudiamo qui dai andiamo vi abbiamo tediato posso salutare Danilo Pierini no Sassuolo ma sta a Terni no però sta lì infatti io stavo dicendo prima di Francesco Ebravo e il suo assistente è altrettanto un bravo ha capito insomma ci sono qualche Ternano che si sta facendo e ce ne sono tanti che fanno bene Grigioni anche la Roma con la Lazio come no c'è Danilo poi chi c'è con la Roma chi c'è con la Roma no lo staff medico no c'è Valero Calori a la Lazio 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 se siete secondi in classifica finché è il migliore sempre grazie a Luca Giovannetti stavo pensando una cosa se Luca si porta via l'albero per Natale poi potrei prendere la tua gravata che mi piace molto guarda la riporto ci faccio due giri un giretto ti piace riporto per Capodanno mi sa piaceva anche me la sono messa anche perché piaceva Micacchi allora per salutare Micacchi no qualche donna per salutare Micacchi salutare Micacchi ma per favore un amico David ci puoi fare un giro dopo una tolgo per porti un giro dopo Natale va bene grazie a Massimo Valoresi un ringraziamento anche ad Alberto Francioli un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito sia in streaming che in diretta e a tutti coloro che ci hanno mandato dei messaggi quindi ricordo che nella prima parte c'è stato Luca Mazzoni quindi se volete potete chi non ha visto la prima parte può vederla subito dopo il telegiornale è stata una parte sicuramente interessante con il portiere Rosso Verde buonanotte a tutti grazie per la grottessa attenzione grazie a tutti per la grottessa attenzione